Buonasera a tutti, io mi chiamo Claudio Menichetti e sono il papà di Emanuela che è morta a 21 anni con il 98% delle ustioni sul corpo. La sera del 29 giugno del 2009 è scoppiata una scinterna presso fuoco e lì purtroppo c'era anche mia figlia. Non è deceduta subito, è morta dopo 42 giorni di ospedale con la speranza che riuscisse a farcela, ma l'ustione è una brutta malattia che porta a gravissime infezioni e in una di queste gravissime infezioni è stata devastata e quindi è deceduta. Noi come io e mia moglie abbiamo da subito, diciamo, da subito dopo la morte dell'Emanuela perché prima per 42 giorni siamo stati impegnati chiaramente in ospedale. Abbiamo cercato subito di capire cosa era accaduto perché i treni non scoppiano, i treni deragliano, quando succede qualcosa dove è un treno che è l'attore principale quando muore muore o il macchinista o muore qualche avventore che attraversa il treno perché non è stato avvertito che il treno arrivava o qualche operaio che lavorava sulle linee ferroviarie oppure qualche bomba che scoppia sui treni, ma non certo persone che non avevano nulla a che fare con il treno in quella sera lì sono morte. Per cui abbiamo cercato di capire subito. Da prima da soli, io e mia moglie, dopo abbiamo iniziato a contattare tutti gli altri familiari per poter costituire un'associazione che in qualche maniera mitigasse il nostro dolore e più potesse in qualche modo fare luce su quello che era accaduto. Ma da soli certamente sarebbe stata subito una battaglia persa perché non avevamo le competenze, non avevamo l'organizzazione e non avevamo neanche le conoscenze, cioè a chi rivolgerci per poter avere queste competenze. A un certo punto abbiamo conosciuto Riccardo, Maria ed altri che sono dell'assemblea 29 giugno ma sono soprattutto dei ferrovieri che ci hanno da subito indicato la strada, qual era la strada giusta. Pensate che gran parte delle notizie che hanno avuto i magistrati l'hanno avute da noi e quindi da loro. Di cosa è una sala montata, di cosa è un antisvio, eccetera, eccetera, per poter ricostruire la dinamica, molto è stato l'aiuto che hanno avuto i procuratori che erano due di Lucca, fra l'altro Lucca è una cittadina di provincia per cui grandi esperienze di questo genere, di stragi, eccetera, non hanno mai avute quindi hanno dovuto anche loro imparare. Ecco, noi siamo riusciti in qualche maniera a organizzare sia la nostra associazione, ma grazie rispetto ai ferrovieri di assemblea 29 giugno a organizzare un lavoro affinché venisse alla luce quello che era accaduto. Però non siamo stati noi soli, abbiamo socializzato, abbiamo portato il nostro bisogno di verità, di giustizia e anche di sicurezza, principalmente di sicurezza, l'abbiamo portata fuori, fuori dalle nostre quattro mura. Abbiamo fatto sì che una città intera ci seguisse e posso citare un episodio perché dico che questa città intera ci segue. Quando è accaduto a Roma la Cassazione che hanno estromesso tutte le parti civili, gli RLS, che erano persone singole, hanno dovuto risarcire tutti i soldi che erano stati dati delle assicurazioni per poter pagare gli avvocati. Quindi è stata mobilitata tramite i ferroviari, tramite la Cassa di Solidarietà, tramite i familiari, eccetera, una città intera affinché si trovasse una cifra che si aggirava intorno agli 80.000 euro, quindi non erano un bricioline, affinché si potesse pagare questi operai che avevano messo la faccia in prima fila. Per cui la solidarietà, che è un'arma fondamentale e secondo me vincente, si era collettivizzata, è stata portata non solo da pochi gruppi, da singoli gruppi, ma bensì eravamo riusciti ad estenderla, tant'è che appunto siamo riusciti in questo episodio, ma poi anche in tante altre cose, basta vedere il 29, la partecipazione che abbiamo. La nostra battaglia a questo punto non è neanche più sulla giustizia e sulla verità, perché oramai sappiamo qual è la verità e sappiamo come si comporta la giustizia. La nostra battaglia ora è sulla sicurezza. Vogliamo fare in maniera che venga collettivizzata, nel senso che si renda conto, che tutti ci si renda conto che è non solo per noi, ma sarà anche per chi deve crescere, sarà per i nostri figli, sarà per tutti e principalmente è la forza lavoro che si deve rendere conto quale sia l'importanza della sicurezza sul lavoro. Quindi si deve attenere, deve fare in maniera che venga rispettata, deve fare in maniera di coinvolgere chi gli sta dintorno, perché diventi un fattore sociale anche, voglio dire, nel senso che sia un caposaldo anche di un modo di vivere, un modo di pensare, che sia anche una filosofia. Ora, tante cose le ha dette Riccardo, riguarda la strage di Viareggio, Riccardo che io considero un fratello, perché una persona che si è spesa come lui, lasciando un posto di lavoro, mettendo a rischio un posto di lavoro, dopodiché essere licenziato non può essere altro che una persona con cui ci può avere un rapporto speciale, è un rapporto che non è solo di frequentazione, ma anche di affetto. Io penso che poche persone avrebbero fatto quello che Riccardo ha fatto. Fra l'altro io penso che ora una delle nostre battaglie sarà quella di far togliere il cavalierato a Moretti e far integrare Riccardo come lavoratore delle ferrovie, come ferroviere in particolare, perché oramai sicuramente ha l'età che nessuno lo riprenderà più al lavoro, ma che gli vengano reintegrati i diritti come ferroviere, che gli sono stati negati. Lui che ha fatto delle denunce ben precise e queste denunce sono uscite fuori una per una nelle condanne di Mauro Moretti, che è stato lui che ha voluto il licenziamento di Riccardo. Per cui noi riteniamo opportuno di poter fare anche una battaglia di civiltà nei confronti anche di Riccardo e far sì che soggetti, amministratori delegati di questa fatta non esistano più. Ci vuole delle persone che guidino, sicuramente, ma con coscienza. Quello che ha detto il processo, che sta dicendo il processo, che si può condannare gli amministratori, ma l'azienda deve essere ritirata fuori. Tant'è vero che non è stato riconosciuto l'incidente sul lavoro. Cosa che era stata fatta nei primi gradi, dopodiché cassata è uno dei motivi. E' proprio questo, lo Stato non si condanna. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie anche per la sintesi. Walter Gelli, Cube Sanità Nazionale. Grazie. Buongiorno, ciao a tutti. Intanto vi consegno la segreteria, il documento, che è la sintesi di quello che dico. Sì, no, sarò velocissimi, tranquilli. Ecco, sì, va bene. In cui ci sono anche i nostri riferimenti, li lascio qui per il gruppo dei componenti di medicina democratica. E adesso vi spiego il perché. Intanto vi dico che è difficilissimo per me intervenire dopo una serie di interventi che ho sentito stamani. Non ultimo l'ultimo. E questo è un intervento che mi tocca come persona, come padre. E quindi fa veramente male. Cioè è da lacrime sentire, provare nemmeno a immedesimarsi. In tutta la vicenda è difficile parlare di ciò che parlerò perché fortunatamente o per sfiga i lavoratori che io rappresento non cadono dai tetti, non subiscono infortuni mortali a oggi, ma subiscono ben altre problematiche. Ho sentito l'intervento di qualcuno che mi ha preceduto stamattina, uno per tutti, Fulvio Aurora. Ciao Fulvio. E dopo il suo intervento mi viene voglia di dirvi che abbiamo il congresso della sanità breve e ho la tentazione di chiedere di cambiare il nome al mio gruppo sindacale. Da CUB Sanità Italiana a CUB Santé Italiana. Perché il tratto che hai descritto stamattina è stato veramente molto chiaro. È stato un esempio molto lampante. Entro nel merito. Intanto portandovi i più sentiti saluti. Ma non è una roba, una sviolinata, anche se avrei voluto farla. Però noi abbiamo da sempre, la mia federazione in particolare, ammirato il lavoro di medicina democratica perché vi abbiamo sempre visti e impegnati su altri temi e a volte impegnati anche al nostro fianco. Anche sul tema stamattina, l'ultima persona che vi ha parlato, che è stato un tema lacerante, divisivo, il tema dei vaccini, avete assunto la giusta posizione. Chi ha tenuto in considerazione una parte e l'altra, esattamente come era nelle mire dell'organizzazione che rappresento. Ho il massimo rispetto per l'opinione anche individuale delle persone. Detto ciò io sono qui e cercherò di essere sintetico. In realtà, per lanciare un appello su un piano tecnico a medicina democratica, per lanciare una richiesta di aiuto, perché la nostra organizzazione è molto ben radicata nel settore sanitario e sociosanitario del Paese Italia, molto ben radicata. Abbiamo grandi competenze di intervento sindacale, ma ci manca, su alcuni temi, veramente l'aiuto, il sostegno e l'apporto di persone illuminate che per loro professione passata o attuale, sul tema della salute e della sicurezza, sappiano indirizzarci dalla parte giusta, perché nel nostro settore, e qui c'era tutta una relazione che non vi faccio, perché parla di quante sono le centinaia di migliaia di persone oggi racchiuse nelle case di riposo, parla di quante sono le milioni di persone rispetto agli anziani totali del Paese che soffrono di una o più disabilità, parla di quanto noi, io tra i primi, potremmo aver bisogno di queste persone che si occupano degli anziani ricoverati, che sono cittadini contribuenti e a loro volta prima o poi utenti. Una situazione in cui, per come funziona oggi il servizio sanitario in particolare, come diceva il costituzionalista che mi ha preceduto e che mi ha rubato un pezzo di intervento, e ne sono felice perché vuol dire che abbiamo centrato il tema, queste persone che necessitano di aiuto sono sempre più non considerate, vi li pese, sfruttate, lavoratori al seguito. Sul tema che ha introdotto il costituzionalista prima, quello che sta accadendo in regione Piemonte, quello in cui è vero che si sta facendo una delibera o è già stata fatta, con la quale si viene a sostenere che io ti ricovero in una casa di riposo per anziani per un tempo massimo di 60 giorni, alle condizioni attuali, passato il quale una commissione decide e delibera se questo tuo ricovero è ancora necessario per le ragioni iniziali, dopodiché se ci devi restare tu mi pagherai la retta a prezzo pieno, che è una follia. Su questa roba noi tenteremo di intervenire come potremo, anche perché immagino che questa roba sarà dilagante, come è successo dal modello formigoniano, oggi abbiamo il modello piemontese, e chiedo ovviamente anche a Medicina Democratica, con tutte le proprie competenze, di accendere un faro su questo tema e noi ci staremo in lotta a fianco. Ma vengo al tema specifico. Allora, nel settore sociosanitario ormai tutto privatizzato, ormai tutto in mano a multinazionali quotate in borsa, che hanno fatto proprio il business dell'anziano, e vedi Corian, e vedi Agnazzurri, potrei farvi un elenco, il margine del profitto oggi si gioca, sul numero dei biscotti da mettere nel caffè latte, quindi meno ne metto, meno costi, più posso dire azionisti ho guadagnato di più, sul numero dei pannoloni che si cambiano agli utenti, e tanto più sul numero del personale in turno ogni giorno. E' chiaro che un numero ridotto di persone, due, tre al massimo nel turno, due, tre al massimo nel turno, a volte due, più volte due che tre, che si devono occupare di 30 anziani disabili o comunque dipendenti, a vario titolo e ragione da queste persone, e alla lunga produce in questi lavoratori burnout e malattia. Allora, quello che noi vogliamo a dire, oltre che a piangerci addosso per queste cose che sono risapute ai più, ormai è chiaro, cioè il livello di presenza in turno del personale socio-sanitario nelle case di riposo per anziani e per disabili, è sotto il tollerabile. Ma vado oltre. Questa roba non emerge, perché purtroppo non esiste rispetto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nel sanitario, ma ancor più nel socio-sanitario, perché nel sanitario tu vai lì per un appendicite, ti fai tre giorni a letto, due, anzi uno a volte, e dopodiché te la cavi da solo. Cioè, quando invece tu ti devi occupare di gente totalmente dipendente da te, o totalmente allettata, o quando va bene su una carrozzina, cioè lì il peso della movimentazione dei carichi e di ogni ripetitività del gesto è una roba che alla lunga veramente rovina la spalla, il polso, la schiena, le ginocchia, rovina le persone. Il problema è che manca una bibliografia specifica che ci possa aiutare ad individuare elementi sentinella che possano poi diventare leggibili ed esigibili nel momento in cui noi andiamo a sollevare la questione per cui accusiamo un'azienda che questa azienda, per come è organizzata, produce malattia. Allora, ho sentito l'intervento di stamattina dell'Avvocata Marra, giusto si chiama, Laura Marra, mi ha lasciato un po' così, ma mi ha fatto molto piacere, perché la penso esattamente come lei. Noi vorremmo colpirne uno per educarne cento, ma non siamo in grado, ci mancano gli strumenti. Questa è la ragione per la quale oggi vengo a chiedere, davvero, senza chiedere una risposta oggi, ma da fine congresso in poi, che Medicina Democratica ci contatti laddove magari siamo maggiormente organizzati, vedi Milano, vedi Torino, vedi Firenze, vedi altrove, per vedere se riusciamo a mettere insieme un gruppo di lavoro e noi siamo anche, insomma, siamo disposti a investire anche su questo lavoro, perché noi vogliamo arrivare a delle schede di prima informazione, poi di rilevazione, perché uno degli strumenti più in voga oggi per misurare la quantità di rischio nelle case di riposo è una roba che si chiama metodo MAPO, indice MAPO, che è una roba che mette insieme 5-6 valori, fa venire fuori tre colori, verde, rosso e giallo, e a secondo delle cose che ti dicono loro, ipoteticamente, oggi noi troviamo tutti i reparti in cui il codice verde, quindi lì di rischio non ce n'è e non ci deve nemmeno intervenire. Peccato che questa rilevazione, e chi qualche cosa ha provato a studiarci sopra, conferma quello che noi sentiamo di persona nelle aziende, non è in grado di considerare la realtà quotidiana. Cioè, io faccio un MAPO che è fondato sulla ipotetica presenza di tre persone in turno al pomeriggio, tre persone in turno la mattina e X di notte. Poi di fatto mi capitano le assenze dell'ultima ora e io non le sostituisco. E quindi siamo già ad un indice che è stato falsato, modificato. L'indice dice che siamo nella fascia verde se ci sono i sollevatori, se ci sono tutti gli ausili che funzionano, ma quando non funzionano è chiaro che quella roba lì ci modifica. Però attenzione, la questione degli ausili minori o maggiori è molto meno rilevante del numero del personale in turno, perché sul numero di personale in turno non sostituito l'azienda ci sguazza e ci guadagna perché io faccio lavorare in due quello che sarebbe stato il lavoro di tre. Non chiamo nessuno di straordinario e quindi ho tirato avanti la giornata. Peccato che questa roba qui è una roba che si ripete in maniera costante per il 75%, quasi l'80% di giornate l'anno. Allora, un conto è dire il MAPO va bene perché su 20 giornate l'anno vabbè, non siamo proprio dentro quei numeri però, insomma, ci possiamo anche stare. L'emergenza vera dell'ultimo momento. Il MAPO non può andar bene se per il 70% delle 365 giornate da 24 ore l'anno il personale è al di sotto addirittura dei numeri previsti da uno strumento che dovrebbe garantire la prevenzione rispetto alla tutela della salute e della malattia. Allora, noi questa roba ce l'abbiamo ben chiara in testa. Ci tratta di metterla nero su bianco e la ragione per la quale sono qui oltre a quella che vi ho detto prima di portarvi i saluti della mia organizzazione e l'augurio che questo congresso possa cogliere tutti gli obiettivi che vi siete dati è per pensare per cercare di trovare insieme a voi che noi riteniamo davvero rispetto ad alcuni temi rispetto ad alcuni metodi di intervento lo avete dimostrato illuminati un aiuto un aiuto che parte da un principio di una persona di cui ho sentito parlare spesso stamattina ma Caccaro diceva che per poter capire qual è il rischio della salute e della sicurezza che cade sui lavoratori dobbiamo tornare ad analizzare il sistema produttivo dell'azienda la ricostruzione del ciclo produttivo ecco noi vogliamo provare a fare insieme a qualcuno tra voi un lavoro di questo genere e renderlo visibile nero su bianco cioè non esiste a livello europeo a livello italiano un qualche cosa che presentato nelle aziende possa in qualche modo una volta restituito su questionari anonimi fatta una valutazione per sei mesi un anno di quella roba lì dire questa roba qui non va bene perché in realtà abbiamo rilevato che produce malattia noi abbiamo tentato di fare una convenzione con Inail siamo andati ad occupargli la sede finché ci sono rotti le palle ci hanno detto facciamo un accordo ce l'abbiamo ancora nel cassetto ma quando siamo andati a fare l'accordo formativo con loro cioè questi qui ci dicevano che sì nella struttura ci vuole l'antincendio che ci vogliono le scale larghe X che ci vuole cioè le cose che ci sono a noi questa roba non interessa a noi interessa proteggere il singolo lavoratore e lo strumento che oggi è in voga rispetto al tentare di dare una sorta di prevenzione da parte patronale rispetto ai lavoratori è questo metodo mappo che in realtà rischia di diventare esso stesso strumento di malattia mi fermo qui perché avrei molte altre cose da dire però devo dirvi la verità la discussione di stamattina che mi ha preceduto mi ha lasciato davvero così per un attimo mi sono sentito per un attimo sono ripiombato a qualche decina d'anni fa nel tono gradevole della parola che ho sentito discussioni di un profilo di un livello che mi hanno lasciato un po' così mi hanno lasciato un po' così credo di essere comunque in ogni caso stato chiaro io vi ringrazio dell'invito di averci invitati anche in qualità di attori noi vi garantiamo per quello che riguarda la mia federazione in particolare la nostra presenza al vostro fianco e anzi vorremmo che voi ci steste un passo avanti su alcune cose sulle quali voi siete sicuramente più competenti di quanto lo siamo noi grazie ci sono altri interventi perché ho visto Maurizio Loschi ah ok Maurizio Loschi è rientrato perché ho visto che era uscito ma ci sarebbe il suo intervento intanto che Maurizio arriva al tavolo aggiungo che il metodo mappo dagli stessi inventori alla clinica del lavoro insieme ad altri è stato per loro stessa missione considerato come un metodo non totalmente applicabile e limitato infatti quindi è già diciamo superato dalla scienza certo e perfetto noi ci siamo però intanto c'è quello perfetto o diventa un divieto che parla da domani oppure ogni settimana in più è un pezzo di malattia che si fa certo prego allora buongiorno a tutti io vorrei intervenire sulla questione della sicurezza sul lavoro perché credo che sia uno degli obiettivi principali che medicina democratica sia posto dall'atto della sua fondazione perché nonostante tutto gli infortuni anche mortali sono in crescita benché diminuiscano le ore di lavoro e tutti i giorni sui quotidiani noi continuiamo a leggere di giovani di persone che sono decedute anche di altri strati sociali artigiani piccoli imprenditori cioè c'è un'ecatombe e il trend sembra in crescita per quale motivo se abbiamo queste normative così puntuali per quale motivo c'è questa crescita quando invece il progresso dovrebbe prevedere che queste vadano a diminuire io credo che ci sia una precisa risposta è perché aumenta la precarietà nel posto di lavoro perché diminuisce il potere contrattuale perché rispetto alle normative che sono effettivamente molto avanzate non c'è poi la capacità di pretendere che vengano applicate provate a immaginare il ragazzo che ha un contratto a termine che scade a fine mese come potrà opporsi a cambiare una lampadina mettendo una seggio sulla scrivania invece che pretendere il trabatello ecco tutti questi casi che avvengono ci dovrebbero portare a fare un ragionamento al di là delle solite note basta non se ne può più eccetera queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano questo invocare genericamente un qualche cosa che fregni gli infortuni non serve a nulla ci vogliono delle proposte concrete e però anche lì dobbiamo fare attenzione perché se queste proposte vanno sempre nella direzione di delegare ad altri soggetti o di intervenire in maniera più pesante ma quando ormai il danno è fatto anche queste non servono a nulla allora noi sentiamo parlare di procure nazionali sentiamo parlare di incremento degli ispettori ma poi dobbiamo andare a considerare se effettivamente potrebbero servire a qualcosa perché quando in provincia di Savona con 15.000 aziende ci sono 5 ispettori andiamo a vedere quanti controlli possono fare ognuno ce ne avrà 3.000 e poi dopo il controllo e fai delle prescrizioni devi ritornare per vedere se sono state applicate ecco io in queste situazioni ne esco molto amareggiato perché in realtà c'è un soggetto che invece in quel posto di lavoro c'è tutti i giorni ed è il lavoratore sono i lavoratori che basta che acquisiscano un po' di consapevolezza e sono in grado di vedere che su quell'istintore c'è tanta polvere così che non viene ricaricato da sei anni che ci sono degli infortuni che si ripetono e però continuano a rimanere lì inerti ad aspettare l'ispettore del lavoro dell'aslo che quando arriva non vede niente allora nell'analisi dell'infortunio come qualsiasi altro incidente se la facciamo bene noi ci rendiamo conto che ci sono più fattori che hanno coinciso anche un incidente in macchina alla rotonda uno non rispetta la precedenza e io penso se mentre andavo a lavorare stamattina avessi ritardato di due minuti avessi rovesciato il caffè oppure fossi andato un po' prima io non sarei passato in quell'istante in quella rotonda quello avrebbe comunque tagliato non avrebbe dato la precedenza ma nessuna macchina che arrivava ecco come una casualità può cambiare il destino di una situazione figuriamoci se invece che è una casualità c'è un intervento ben preciso allora nell'analisi dell'infortunio io sono certo che in qualsiasi caso si può trovare anche una responsabilità diretta che non vuol dire colpa ma un qualche cosa che anche l'interessato anche quello che ha subito l'infortunio avrebbe potuto fare e che forse non ha fatto ora poiché sugli altri spesso non abbiamo il potere di incidere perché non abbiamo la forza però su di noi sì questa forza ce l'abbiamo sul nostro comportamento sul nostro modo di affrontare la problematica noi volendo potremmo incidere ecco io credo che questo dovrebbe essere il principale messaggio che noi andiamo a dare ai nostri colleghi ai colleghi del passato io sono in pensione ma il concetto non cambia perché noi abbiamo aperto lo sportello salute da tanto tempo prima con Dario Miedico quando poteva esercitare adesso abbiamo trovato altri medici che lo sostituiscono l'attività non è facile però è anche vero che noi acquisiamo un bagaglio di esperienza nel cercare di far ottenere ai lavoratori un risarcimento per il danno che hanno subito che non ce ne facciamo niente se poi non la ritrosmettiamo all'interno del mondo del lavoro ecco in questo noi abbiamo trovato una sinergia tra il sindacalismo di base e medicina democratica e per cui ho partecipato online qualche 10-15 giorni fa a un incontro che diceva bisogna creare rete ma che in realtà è una cosa scontata medicina democratica la fa da 40 anni io quante volte mi sono rivolto a Caldiroli a Luigi Mara a Marco Spezia e ad altri a Edoardo Bai perché mi aiutassero nel portare avanti una determinata problematica a volte perché era già successo perché una persona colpita da un infortunio o da una malattia professionale rivendicava il riconoscimento a volte per fare prevenzione perché laddove riusciamo a organizzare i lavoratori e tra questi anche qualche d'uno che è interessato al problema della sicurezza noi riportiamo all'interno del mondo del lavoro queste informazioni per cui quei lavoratori pensionati di cui si parlava oggi che arrivano col mesotelioma non sono più in tempo a tornare indietro di 40 anni e chiedere una migliore sicurezza sul lavoro chiedere delle bonifiche chiedere degli strumenti di protezione individuali e ambientali ma quelli che ci sono adesso sì ecco allora il problema è di nuovo trasferire nel mondo del lavoro queste informazioni che andiamo a raccogliere per cui noi facciamo già da tramite abbiamo già costruito questa rete dobbiamo implementarla dobbiamo renderla visibile perché altri possano attingere perché non è un problema solo di organizzazione è un problema proprio che sia il mondo del lavoro che si riappropria del diritto di tutelare la propria salute perché la legge lo affida al datore di lavoro ed è giusto perché il datore di lavoro ha il potere economico per intervenire ma il problema è che poi la pelle ce la metto io non ce la mette lui e lui non ha interesse a fare prevenzione perché la prevenzione costa e allora io devo capire per potergli la imporre altrimenti non funziona non riesco a ridurre a incidere sulla questione degli infortuni per cui cerco di essere stringato recuperare un potere contrattuale è indispensabile perché i lavoratori quei diritti che hanno sulla carta li abbiano poi davvero anche nei fatti perché sulla carta c'è scritto che neanche il precario deve morire ma lui non ha la possibilità di reagire non ha la possibilità di incidere sui tempi il delivery che è stato ucciso da una macchina in un incidente ha ricevuto dopo poco la comunicazione che non avendo rispettato i tempi di consegna veniva licenziato la stampa punta l'attenzione su questa modalità perché fa notizia ma il problema vero è che quello è morto e non aveva modo per imporre una modalità diversa non ha modo di potersi organizzare in quelle strutture perché sono talmente parcializzate e lì c'è la responsabilità grossa del sindacato che per anni è rimasto inerte di fronte al fatto che venivano sempre più terziarizzate queste attività io mi ricordo quando nella mia fabbrica abbiamo fatto una battaglia perché ci mandavano a pulire i forni della produzione di fibra di vetro c'era uno strato alto così sopra alle griglie e i forni dovevamo aspettare che si raffreddassero e ci mandavano dentro che la temperatura era ancora elevata a un certo punto abbiamo fatto tanto che ci hanno tolto quel lavoro l'hanno dato a un'impresa e quelli dell'impresa non avevano la forza contrattuale e i colleghi non avevano più interesse a portare avanti quella battaglia perché non erano più tenuti a andare in quei forni ecco che allora avendo trasferito il problema su un disgraziato più disgraziato di me il problema sembrava risolto ecco lì c'è la responsabilità dell'organizzazione sindacale così come oggi abbiamo accennato giustamente che non si può essere per una sanità pubblica e poi introdurre nei contratti la sanità integrativa allo stesso modo non si può difendere i diritti dei lavoratori accettando passivamente la deregulation accettando passivamente che si vada di appalto in appalto che alla fine non capisci più in questo gioco di scatole cinesi chi è responsabile contro chi devi combattere semplicemente non ne hai la forza allora l'ultimo concetto che vorrei esprimere è questo ci sono diverse organizzazioni e ringrazio il mondo che vorrei per l'intervento che ha fatto che si sono costituite perché hanno subito un pesantissimo danno proprio la vita delle persone la salute eccetera alcune di queste hanno fatto un salto di qualità non si limitano più a rivendicare un riconoscimento del danno un risarcimento si pongono l'obiettivo di essere utili perché ci sia una trasmissione di competenze perché questa loro esperienza ritorni nel mondo del lavoro e venga raccolta da altri ecco l'invito è che tutte queste associazioni che nascono con questo motivo arrivino alle stesse identiche conclusioni vi ringrazio grazie volevo solo verificare c'è un ultimo intervento ancora degli autoconvocati giusto sì e per chi è arrivato pensando che iniziassero i lavori della sessione pomeridiana abbiamo sforato stamattina quindi abbiate pazienza ancora questo è l'ultimo intervento e poi passiamo il testimone allora comincio subito così Riccardo prima stamattina quando è intervenuto ha detto che sono una ex ferroviaria un ex capotreno ed è una verità da un anno e mezzo non lavoro più in ferrovia ma faccio anche parte del coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati che cos'è è un ambito che si è costituito circa tre anni fa ed è nato per l'emergenza per battere l'emergenza sindacale diciamo per far capire bene che è quella che caratterizzata è venuto fuori stamani è stato accennato anche nel sindacalismo di base dalla questione della frantumazione della autoreferenzialità della concorrenza fra sigle e appartenenze e quindi per superare questa disastrosa situazione ci siamo occupati ci siamo concentrati nella nostra attività principalmente sulla questione della sicurezza la salute e aggiungo la repressione la repressione è una questione molto importante per chi movimento di lotta per la sicurezza se non si ci si organizza non si combatte non ci si mobilita su questo piano anche le cose che diciamo e quello che cerchiamo di approntare viene neutralizzato perché vengono neutralizzati attraverso le rappresaglie le sanzioni disciplinari la repressione fino alle piazze le manganellate per chi alza la testa e lotta figuriamoci per chi come Riccardo o come altri miei colleghi o come tanti lavoratori osa denunciare alzare la testa se non più addirittura promuovere e mobilitare se vengono fatti fuori questi anticorpi fondamentali tutto il resto viene meno la paura il terrore che viene diffuso in tutte le situazioni figuriamoci nel mondo della precarietà e degli appalti subappalti fa piazza pulita di ogni reazione quindi questo legame deve essere fondamentale la sicurezza e la salute deve essere legata a una battaglia contro la repressione della quale ci siamo occupati abbiamo fatto anche un convegno che fosse un convegno vivo cioè le cose che abbiamo tratto dai protagonisti cerchiamo di rimetterli come pratica nella nostra attività la prima cosa che abbiamo fatto la prima importante iniziativa è stata qui a Torino proprio qui a Torino ed era il dicembre del 2019 era il dodicesimo anniversario della strage operaia della Thyssen Group con sette operai morti e bruciati erano presenti molto partecipata abbiamo fatto un presidio davanti a Confindustria appuntando proprio il dito su quella responsabilità e poi abbiamo fatto un'assemblea molto partecipata erano presenti le madri degli operai Thyssen i familiari i familiari di Viareggio sono intervenuti ecco e quindi la domanda che dovremmo farci rispetto anche a tutto quello che è emerso rispetto a quello che è stata la mobilitazione e che è tuttora che continua sulla strage di Viareggio perché nella città operaia storicamente nel patrimonio del movimento operaio che è Torino perché nella città di Gramsci non è stato prodotto qualcosa che invece è stato possibile a Viareggio dobbiamo rispondere a questa domanda ci fa risolvere trovare le risposte ci fa aiutare moltissimo nell'andare avanti nel nostro lavoro abbiamo articolato da allora la nostra attività sui due passaggi che sono quella della sostegno e della solidarietà alle lotte della classe operaia alle lotte dei lavoratori e l'altra quello che vi ho appena detto sulla questione salute sicurezza e repressione abbiamo sostenuto le lotte dei lavoratori le ultime in ordine di tempo quella che chiaramente a livello ormai a carattere nazionale che è stata anche ritrattata stamattina della GKN e un'altra che è particolare ma contiene tutti gli ingredienti importanti per un'attività vera e concreta sulla sicurezza è una lotta che stanno portando avanti da ormai febbraio i ferrovieri macchinisti del coordinamento macchinisti cargo che è una realtà che si è autoconvocata e autoorganizzata al di là e oltre l'appartenenza di sigla sindacale sono non iscritti la cosa importante è che questi lavoratori quindi la base è che non hanno delegato non hanno delegato i sindacati di cui si parlava non hanno delegato ma sono diventati i loro stessi protagonisti hanno fatto il quinto sciopero il 7 ottobre hanno fatto cinque scioperi consecutivi e in ferrovia cinque scioperi oggi è veramente un'impresa fra l'altro da lavoratori autoorganizzati e che quindi hanno fatto esperienza attraverso il rapporto con i loro colleghi facendo assemblee facendo un questionario aiutati anche da Vito Totire rispetto alle questioni della salute e della sicurezza e di ciò che è l'organizzazione del lavoro che è essa stessa produttiva di nocività di infortuni e anche alle volte della morte sul lavoro inoltre la questione che riguarda questi macchinisti è legata alle loro condizioni di lavoro e legate quindi alla sicurezza del trasporto noi siamo andati il 7 perché in contemporanea allo sciopero hanno organizzato un'assemblea in presenza ne avevano fatte altre online siamo andati da Viareggio e sono venuti i familiari e abbiamo siamo entrati in relazione con loro e mentre per gli altri scioperi eravamo andati concretamente nelle stazioni a entrare a sostenere il loro sciopero con un comunicato e con la relazione con i pendolari i lavoratori altri gli studenti per far capire la giustezza di quello che stavano facendo siamo andati a Livorno a Pisa siamo andati a Ponte d'Era a Firenze per far sì che fosse compresa di essere di aiuto e sostegno cioè il nostro ruolo questo poteva essere perché il ruolo vero la bandiera della sicurezza e anche dei diritti e della lotta ce l'hanno in mano i lavoratori questa è una riflessione che serve anche a tutti noi anche rispetto all'intervento precedente che è stato secondo me interessante molto interessante rispetto a quello anche che poi è l'esperienza concreta che vi sto dicendo io sulla questione della sicurezza siccome i treni gridavano allarme prima di Viareggio è quasi concluso i macchinisti insieme ai familiari insieme a Sembra il 29 giugno hanno fatto sì di denunciare un qualcosa che di nuovo grida allarme cioè come prima di Viareggio ancora i treni stanno gridando allarme chi si occupa come qui come in questo consesso di prevenzione deve sapere quindi che è importantissimo questo è quello che accade prima perché Riccardo ha detto non siamo stati in grado di evitarlo abbiamo fatto altre cose ma non abbiamo evitato Viareggio bene oggi noi insieme a loro ci occupiamo del fatto che i treni ancora gridano allarme che l'antisvio non è mai stato impiantato e avrebbe evitato non so se la strage ma le conseguenze sicuramente così disastrose le avrebbe evitate e la modifica dell'apparato frenante di questi treni merci che sono anche i treni bomba quelli di merci pericolose che producono incendi e hanno prodotto incidenti mancati solo per caso anche vicino a Viareggio e quindi che può succedere di nuovo un altro disastro un'altra strage ecco questo è un compito che ci siamo presi anche noi proprio per aiutarli sostenerli e far sì che questa unità tra familiari cittadini lavoratori altri ferrovieri e questi macchinisti sia una una sinergia che possa arrivare da parte nostra a contribuire al massimo a questo risultato concludo dicendo che ci siamo occupati degli ultimi infortuni sempre degli infortuni ma gli ultimi che sono stati quelli di un lavoratore delle poste che è caduto dal tetto ed è morto alla Piaggio invece un infortunio con la mano rimasta dentro un macchinario che gliel'ha presa dentro un infortunio gravissimo dici di sì lo sai lo conosci e noi siamo andati di nuovo non mettendo il nostro comunicato sui social non soltanto dichiarandolo su ma entrando in relazione con alle poste siamo andati negli uffici postali entrando in relazione quindi comunicando e dando relazionando con i lavoratori con i cittadini che si recano alle poste alla Piaggio con i lavoratori Piaggio ecco e penso che questa attività così in breve che vi ho descritto abbia portato dei frutti questo complesso di attività che si intreccia fra familiari ferrovieri quello che ha detto Claudio Riccardo il coordinamento autoconvocati e dico che se questa pratica viene collettivizzata viene tirato fuori quello che è importante che sia il nostro contributo per i lavoratori protagonisti penso che potremo insieme fare i passi avanti grazie allora abbiamo concluso questa sessione iniziata stamattina ringrazio anche Franco Cilenti che ha introdotto questa mattina a me erano affidate le conclusioni a cui rinuncio perché per motivi di tempo e volevo solo riprendere una cosa allora ne ho sentite moltissime interessanti quasi tutti gli interventi hanno parlato di partecipazione mobilitazione nel DNA di medicina democratica e qualcuno sottolineava il problema del coinvolgimento anche dei giovani allora sentendo anche l'intervento di Fulvio stamattina effettivamente il movimento di Fridays for Future è forse quello più vicino a determinati valori di difesa della salute dell'ambiente a volte anche molto radicale quindi molto vicino agli insegnamenti che vengono da medicina democratica credo che si possa fare uno sforzo per cercare di avvicinare insomma questo movimento con medicina democratica almeno tentare un confronto per magari essere di supporto anche a una nuova generazione che sicuramente ha già la capacità di reagire io non sono così pessimista come Luisa che diceva i giovani non hanno più spirito critico per fortuna hanno riempito di nuovo le piazze molto più di noi e poi invece rispetto anche all'intervento che faceva Gino Carpentiero che ha parlato delle esperienze positive tra cui quella della GKN vi ricordo l'appuntamento di sabato prossimo 22 a Bologna dove anche lì ci aspettiamo una mobilitazione appunto unitaria che è quello che hanno chiesto alla GKN il collettivo di fabbrica di rinunciare alle proprie bandiere per fare qualcosa di unitario anche il richiamo al superamento del particolare e cercare l'unità è stato un altro degli appelli trasversali degli interventi di questa sessione del congresso ringrazio tutti e alla prossima ok a sprombattuto iniziamo chiedo a Guido di venire alla presidenza iniziamo la sessione su ambiente e salute vieni pure non mi perdo in chiacchiere ricordo soltanto che stasera alle 21 in questa sala verrà proiettato il film Chemical Bross di After Oil sulla filiera della nocività del fluoro e quindi vi invitiamo a venire a dirlo magari in particolare i torinesi che sono in giro e che c'è questa possibilità di un film tra l'altro premiato proprio a Cinema Ambiente di Torino pochi mesi fa passo subito scusa Marco visto che siamo in ritardo e ci sono anche difficoltà logistiche facciamo solo una verifica di come organizzare il pomeriggio in modo che non ci sia stress perché se poi uno ha un treno da prendere allora Guido Mariangela ecco Mariangela tu saresti rimasta tu sei torinese e poi se spostiamo il tuo intervento più tardi ti dispiace anche perché ci ricorderemo attraverso il tuo intervento alle questioni del TAV e delle falde in Piemonte nel caso di questioni che riguardano l'acqua e l'idrogeologia Roberto Romizzi ha il treno da prendere immagino no anche tu allora perché così spostiamo Celestino in avanti come secondo intervento della giornata in modo che così possa tranquillamente altri hanno problemi Marco Paganini ha problemi allora spostiamo soltanto Celestino allora a questo punto spostiamo solo Celestino dopo Guido e proseguiamo con l'ordine precedente scusatemi ma in questo modo almeno qualcuno è un po' più rilassato e non va male un quarto d'ora Guido e tutti perché se no tiriamo già troppo lungo il tutto grazie Guido scusate ecco buongiorno dunque intanto ringrazio Medicina Democratica e in particolare Vittoria Agnoletto di avermi invitato a questo incontro poi purtroppo devo chiedervi scusa ma io alle 5 devo lasciare perché per un impegno precedente che ho assunto non posso stare fino alla fine della seduta allora io sono un membro e uno dei soci fondatori di un'associazione che si chiama Laudato Si un'alleanza per il clima la terra e la giustizia sociale preciso a scanso di equivoci che io sono laico ateo e anche un po' anticlericale però noi dell'associazione consideriamo l'enciclica Laudato Si uno dei documenti anzi il documento politico politico più importante che sia stato pubblicato nello scorcio di questo secolo perché perché in questo documento secondo noi il filo conduttore è una saldatura inestricabile fra giustizia ambientale e giustizia sociale la giustizia non è quiete la giustizia è lotta e iniziativa la giustizia sociale è lotta contro l'emarginazione e le diseguaglianze sociali che esistono nel mondo la giustizia ambientale è lotta contro tutto ciò che impedisce agli ecosistemi di riprodursi e di rigenerarsi e le due cose sono strettamente connesse perché la vita umana dipende e la salute umana dipende strettamente dalla rigenerazione dei sistemi e questa interconnessione è la stessa è il fondamento del principio one planet one health un unico pianeta un solo pianeta un'unica salute che dovrebbe anche nelle dichiarazioni ufficiali caratterizzare l'approccio di tutto quanto le attività mediche se la salute dipende dalla qualità dell'ambiente è assolutamente importante che la qualità dell'ambiente venga curata ma anche la qualità dell'ambiente dipende molto dalla salute umana intanto perché chi non si occupa a fondo della propria o dell'altrui salute non capisce che il modo migliore per occuparsene è salvaguardare l'ambiente da questo punto di vista direi anche la salute mentale perché per quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi sembra che noi siamo governati da una banda di pazze la connessione strettissima di tutto ciò che caratterizza il mondo in cui viviamo rappresenta una rivoluzione culturale radicale nei confronti della cultura che ha dominato tutto il periodo della modernità la modernità è un termine dotto e elegante per dire capitalismo insomma praticamente le date di inizio della modernità e del capitalismo possono essere fatte risalire al 1492 scoperte dell'America e il colonialismo e tutto quello che ne è seguito la modernità è stata caratterizzata da una nettissima separazione fra ciò che riguarda l'uomo la sua salute il suo corpo e tutto ciò che riguarda il resto del mondo Cartesio ha tracciato nella maniera più chiara questa distinzione esiste la res cogita il pensiero l'uomo all'epoca bianco maschio e occidentale e tutto il resto la materia a cui erano stati assimilati un primo tempo anche i selvaggi cosiddetti cioè le popolazioni dei paesi colonizzati e persino le donne che magari l'anima ce l'avevano ma il cogito proprio il pensiero vero a quell'epoca non gli veniva riconosciuta questa contraddizione questa separazione oggi è decisamente superata da una forte sensibilità antispecista che caratterizza molte delle nuove generazioni meno le nostre è però superata fondamentalmente dall'antropologia contemporanea e dal pensiero che si ispira e si rifà all'antropologia contemporanea di cui Bruno Latour un filosofo che è morto pochi giorni fa è stato forse uno dei principali esponenti e questo superamento si basa soprattutto trova la sua legittimazione e la sua documentazione nello studio di popolazioni primitive che vingono cosiddette primitive cioè indigeni indigeni che vivono ancora in contatto con la natura in maniera più intensa di quanto non possiamo e non vogliamo fare noi ed è anche un in particolare per quello che riguarda l'Amazzonia è uno dei temi che ha ispirato l'enciclo Laudato Si e la convocazione di un sinodo sull'Amazzonia da parte di Francesco ma anche ovviamente questo superamento della dicotomia il principio fondamentale che dovrebbe ispirare One Planet One Health e cioè tutta la medicina moderna però la permanenza nella cultura moderna di questa separazione fra il corpo umano e la sua salute e il resto dell'ambiente è all'origine probabilmente dell'attenzione che è stata data al corpo malato attraverso la terapia piuttosto che alla prevenzione attraverso la cura di tutti quei fattori che influiscono sulla condizione umana e con ciò la medicina moderna cioè quella che si è sviluppata a partire dal capitalismo e a partire ricordiamoci dalla caccia alle streghe che erano fino al nel tardo medioevo e all'inizio dell'età moderna le detentrici dei saperi tradizionali sull'alimentazione e sulle cure eccetera su cui si basava la medicina naturale questa separazione fra il corpo e la mente ha indotto fra il corpo umano e il resto del mondo ha indotto la medicina contemporanea a concentrarsi sul corpo malato invece di che su quello che lo faceva guarire e di qui deriva moltissimo il fatto che la medicina moderna sia in gran parte sempre di più affidata alla farmacologia cioè ha delle medicine che vengono sempre di più prodotte da un numero sempre più ristretto di multinazionali completamente controllate dalla finanza internazionale fino addirittura a dettarne i protocolli terapeutici cioè come vengono usate le varie medicine e a ridurre l'attività di molti medici noi che non siamo medici questo lo sperimentiamo quotidianamente ridotti a fare i passacarte per scrivere delle ricette passate le medicine oppure nei casi più complessi a trasferire il malato dentro degli ospedali sempre più grandi e tecnologicamente più complessi e per questo sempre più isolati dal territorio e questo è tutto discapito della medicina territoriale di cui tutti voi siete difensori ma che proprio per il fatto di essere legata alla comunità è anche più legata all'ambiente alle sue trasformazioni alla capacità di capire da dove vengono guardate che One Planet che vuol dire l'ambiente non vuol dire soltanto la fabbrica e il territorio circostante che sono cose su cui giustamente medicina democratica si è esercitata e ha lavorato moltissimo vuol dire tutto il pianeta cioè che la deforestazione dell'Amazzonia o una fuga di petrolio nel mar dei Caraibi è una cosa che riguarda direttamente la nostra salute in questo punto di vista noi dovremmo riuscire a entrare questo modello di sanità tutto incentrato sul grande ospedale con le macchine sempre più complesse e sempre più in mano a chi le produce e non al medico che ne diventa poi il semplice operatore e questa concentrazione sulla terapia come somministrazione di farmaci eccetera è quello che ha facilitato la privatizzazione e promuove la privatizzazione della sanità una medicina territoriale molto più incentrata sul territorio e sul rapporto con la comunità sarebbe molto più difficile da privatizzare cioè da rendere profitto a chi la vorrebbe dominare questo vizio questo limite di fondo della medicina contemporanea ha poi saltato fuori in maniera molto scoperta durante la pandemia di covid innanzitutto la impreparazione della medicina territoriale anche dei piani di emergenza per in caso di epidemia hanno fatto sì che inizialmente tutta la malattia venisse concentrata negli ospedali che si sono trasformati in molte situazioni in dei focolai di contagio e poi si è rinunciato a tutti gli interventi sull'ambiente come la ricerca di spazi più aperti la reazione dei luoghi dove si concentrava necessariamente più gente come le fabbriche e soprattutto le scuole i trasporti la turnazione non solo all'interno delle fabbriche ma della vita organizzata della città tutte iniziative tutte misure che avrebbero potuto diventare permanenti e quindi diventare un fattore al di là dell'esplosione del covid un fattore permanente di trasformazione della nostra società invece anteponendoci misure molto più estemporanee come il lockdown come le mascherine e poi addirittura il green pass eccetera scartando anche tra l'altro delle importanti per quello che ne so soluzioni soluzioni alternative al vaccino come potevano essere le terapie mediche in parte sperimentate su cui è stata praticamente chiusa la ricerca e anche l'attenzione verso le esperienze che già positive eccetera e senza preoccuparsi di quanto lockdown e mascherine potevano compromettere l'equilibrio anche psicologico emotivo delle persone in particolare dei bambini e degli adolescenti di cui oggi scontiamo le cose e tutto si è ridotto sostanzialmente prima l'attesa e poi la raccomandazione di vaccinarsi no? io premetto che sono vaccinato lasciando al grandi poi sono due società produttrice del vaccino poi sostanzialmente in ultima analisi una il potere di decidere prezzi in segreto e informazioni relative al vaccino con la conseguenza che a due anni dalla introduzione del vaccino quasi due anni dall'introduzione del vaccino noi veniamo a sapere che il vaccino molti di noi forse se ne erano già accorti o lo sospettavano non protegge dal contagio né attivo né passivo che dura pochissimo tempo che probabilmente bisogna ripeterlo per molto tempo e senza poi mai varare veramente questo è stato rilevato anche stamattina delle indagini vere sulle manifestazioni avverse che invece ci sono chiunque di noi pratichi il medico sa dei medici oppure li conosca i medici che fanno la medicina territoriale quanto riluttanti sono i medici a prendere nota di eventuali effetti negativi che sono conseguiti lo stracismo a cui sono stati sottoposti molte persone moltissime persone ma soprattutto molti medici e molti addetti alla sanità non ha fatto nient'altro che consolidare questo potere delle grandi società farmaceutiche che producevano il vaccino e veniamo adesso a quello che è il tema lo ridiquido in cinque minuti la conversione ecologica allora c'è una parola che oggi è molto di moda è la cura non riguarda soltanto l'attività professionale dei medici riguarda viene usata il termine molto spesso veniva usata per indicare l'attività di attenzione alla famiglia e alla riproduzione svolta prevalentemente dall'alba dei tempi dalle donne tanto da venire fatto coincidere molto spesso con il cosiddetto lavoro riproduttivo che cos'è il lavoro riproduttivo è quello che prevalentemente la donna esercita non soltanto con la generazione e con la cura della famiglia ma anche con un fattore molto trascurato che invece è fondamentale tenere insieme una comunità e lo sperimentiamo molto bene in quei territori dove l'emigrazione della maggior parte delle donne ha lasciato la comunità e il territorio completamente sprovvisto di un fattore fondamentale per tenere insieme i legami sociali gli uomini che sono rimasti là spesso anche molto dipendenti dalle rimesse delle loro mogli o compagne e non sono più in grado di tenere in piedi una comunità e lì la società si sfalda completamente allora cura e soprattutto la cura complessiva sia della salute sia della vita sia dell'ambiente e di fronte ai disastri provocati alla crisi ambientale e dalla crisi climatica eccetera la vera cura a cui ciascuno di noi dovrebbe essere chiamato è la conversione ecologica come sapete è un termine introdotto da Alex Langer 25 quasi 30 anni fa eccetera poi ripreso dal Papa nell'enciclica laudato così che è una cosa completamente differente dalla transizione anche se entrambe le termine transizione e conversione si fregiano dello stesso aggettivo ecologico allora la transizione è il tentativo di mantenere inalterate la struttura le condizioni su tutta la struttura di potere e il funzionamento della nostra società cercando di ridurne gli impatti sui punti più critici che sono il clima guardate la transizione si occupa pochissimo di biodiversità di agricoltura e del danno che l'agricoltura fa nonostante che due degli elementi che hanno fondamentalmente sforato i limiti del pianeta i planetari bounder eccetera siano dei sottoprodotti il protossido di azoto il protossido di potassio sono dei prodotti dell'agricoltura dei sottoprodotti dell'agricoltura ma che cosa vuol dire si occupa la transizione prevalentemente esclusivamente delle fonti energetiche e pensa di poter risolvere il tutto sì con un certo ricorso alle rinnovabili ma poi con la cattura del carbonio e soprattutto col nucleare nucleare che non c'è ancora che verrà che sarà quello di quarta generazione però tutti ormai ne parlano e questa diventa una scusa per non intervenire sugli altri tutti gli altri aspetti che non sono solo la generazione energetica ma anche altre fonti del grado ambientale eccetera e poi a prometterci lo fa il nostro ministro della transizione ecologica la fusione nucleare che funzionando come il sole ci sommergerà di tutta l'energia di cui abbiamo bisogno senza bisogno che ci preoccupiamo oggi di fare la conversione ecologica è una cosa completamente diversa perché riguarda non soltanto il campo energetico che sicuramente va affrontato non col nucleare e non continuando da produrre a generare energia con i combustibili fossili ma esclusivamente con le energie rinnovabili riducendo il nostro fabbisogno e soprattutto cambiando gli stili di vita cioè riducendo i nostri consumi e cercando di renderlo desiderabili questo è il punto fondamentale che Alex Langer su cui Alex Langer ha insistito in uno degli ultimi interventi della sua esistenza cioè perché la conversione ecologica si affermi e noi possiamo affrontare i problemi sempre più urgenti che abbiamo di fronte occorre renderla desiderabile che cos'è che può rendere desiderabile la conversione ecologica è l'esempio e la pratica di tutti noi nel far vedere che si può vivere meglio essere anche più contenti e più sani dal punto di vista complessivo non solo fisico ma anche mentale psicologico e quant'altro eccetera coltivando di più le relazioni con le persone gli affetti e le relazioni con il territorio e con quel che ci resta della natura originaria eccetera piuttosto che abbandonarci all'inseguimento continuo dei consumi eccetera ma di fronte all'urgenza della crisi economica bisogna anche dire che l'alternativa alla conversione ecologica è sicuramente un processo molto difficile e lungo ed è un processo non è un obiettivo è una cosa che tutti i giorni si deve svolgere per nostra iniziativa e sotto i nostri occhi dobbiamo anche tentare che l'alternativa non è un mondo con a disposizione tutti i consumi possibili e un continuo aumento del reddito del PIL e la crescita di cui si parlava stamattina è un mondo in cui ci sarà sempre più austerità differenziata cioè pagata soprattutto dai più poveri e dai più discriminati un ambiente sempre più difficile e ostico da vivere per esempio con il moltiplicarsi gli elementi estremi di cui in Italia abbiamo anche in Italia abbiamo cominciato a sperimentare la presenza e soprattutto da continui fattori di perturbazione che aumentano il potere di chi ha in mano le redini della gestione del sistema economico a tutto questo tenendo conto dell'urgenza che la crisi economica impone al nostro comportamento i nostri governanti i grandi della terra hanno deciso di aggiungere il fattore guerra che a parte la strage le morti e la distruzione della vita e del futuro di tutte le persone che in qualche maniera ci vengono coinvolte anche dal punto di vista del deterioramento del clima non solo le emissioni di CO2 e di altri gas migliaia di esplosioni non fanno che riempire l'atmosfera di queste cose la produzione di armi la distruzione di armi riempie l'atmosfera di CO2 e di altri gas clima alteranti eccetera le bombe e l'inquinamento del territorio rendono i campi dell'Ucraina che è il granaio non dell'Europa ma del mondo uno dei granai del mondo eccetera rendono il suolo dell'Ucraina inutilizzabile per le produzioni future e se ne accorgerà la popolazione ucraina quando finalmente potrà ritornare sul suo territorio bene cioè invece di affrontare la conversione i problemi della conversione ecologica confidando sul fatto che la transizione ci porterà nell'Eden della società dell'abbondanza eccetera noi oggi ci permettiamo anche di accettare una guerra di carattere distruttivo e rischioso come quelle in cui siamo precipitati io ho finito grazie ringraziamo Guido e passo la parola a Cestino Panizza qual'è comunque va bene va bene ok vai si va bene ringrazio dell'invito e anche di avermi anticipato l'intervento in modo che mi tranquillizza nel rientro a Brescia l'intervento di Guido Aviale facilita l'inquadramento dal problema che devo affrontare tra l'altro una battuta sulla questione della guerra il Pentagono è il maggiore singolo emettitore di CO2 nel mondo il che la dice lunga con i pochi dati che si sanno si sa che è il singolo maggiore emettitore di CO2 nel mondo perché sul tema del costo ambientale della guerra c'è un blackout quasi totale dicevo che l'intervento di Vial mi facilita perché il tema dell'agricoltura secondo il mio modo di vedere è paradigmatico dell'impatto dell'agricoltura del sistema agroalimentare è paradigmatico della della questione ambientale come come attualmente come si fa andare avanti come 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 deve essere inquadrato allora nel mondo ci sono 100 milioni di metri quadrati di terra di terra abitabile di questi la metà sono dedicati all'agricoltura di questo dedicato all'agricoltura come si fa come faccio andare avanti di questo la metà dei chilometri della terra arabile dedicata all'agricoltura oltre la metà è ben oltre è occupata è occupata per la produzione di carne siano che siano pascoli che siano un'agricoltura dedicata all'alimentazione degli animali 77% e questo 77% dei terreni agricoli produce solo il 18% del fabbisogno di calorie per l'umanità la dice lunga su come è utilizzato il pianeta per l'alimentazione e questo è il risultato di un sistema agroalimentare che è governato intanto dai vincoli ambientali quello che è successo in Pakistan 30 milioni di persone che avranno un problema di sopravvivenza a breve è governato dal commercio internazionale il commercio internazionale regola gli input dell'agricoltura regola il commercio dell'agricoltura regola la produzione di cibo regola la produzione di sementi quindi è un sistema fortemente vincolato da chi da come ho fatto come hai fatto scusa ah lì è governato da alcune multinazionali queste sono le multinazionali che producono le sementi la Bayer Bayer Monsanto la più grande seguita da Coreva che è la DuPont che si è unita a un'alta multinazionale la Singenzia la Basf e via di questo passo e da queste sono le stesse aziende che le maggiori produttice di agrofarmaci pesticidi e fertilizzanti il sistema è regolato da questa da questo pool di aziende che decidono quali semi produrre a chi darli come darli e quali coltivazioni fare se avete presente quello che è successo con il grano con le navi uscite dai porti dall'Ucraina il 70% delle navi erano navi che avrebbero dovuto essere destinate all'alimentazione di animali di bestiame dell'industria della carne cosa cosa faccio perché allora intanto chiudiamo questo che ti dava problemi quello lì capisci adesso puoi anche muovere il mouse ti metti qui con questo grazie ecco il sistema di regolazione che è nato col WTO ha prodotto una serie di problemi a livello di produzione alimentare a livello mondiale i principali sono il dumping di materie prime da parte dalle società commerciali l'impoverimento dei piccoli contadini ma non solo dei piccoli contadini anche negli Stati Uniti la produzione la produzione alimentare non è remunerata dal costo dei prodotti alimentari e regola il WTO impedisce la regolazione la difesa delle piccole produzioni delle piccole delle produzioni dei piccoli contadini locali perché determina il prezzo sul mercato delle rate alimentari e quindi facilita e favorisce le grandi imprese che abbiamo che abbiamo che ho elencato che sono queste che ho elencato prima il risultato di questa cosa è che al mondo ci sono 850 milioni di persone che vivono che non hanno un adeguato livello di alimentazione non vuol dire che sono affamate vuol dire che hanno livelli di qualità della nutrizione inadeguati e contemporaneamente vi sono un miliardo e mezzo di persone sovrappeso odobese che determina la crisi sanitaria in alcuni paesi in alcune zone negli Stati Uniti il 45% della popolazione è obesa non sovrappeso obesa allora la produzione di alimenti negli ultimi negli ultimi anni è aumentata ma la produzione è quello che è aumentato in termini relativi è la produzione di biocarburanti la produzione di alimenti per animali si è ridotta la produzione per alimentare l'uomo gli uomini e tutto questo il risultato di tutto questo sistema è un enorme spreco di cibo perché tutto quel sistema che descrivevo sommariamente all'inizio produce ovviamente perdita di cibo alla produzione perdita di cibo in fase di agricoltura perché poi il cibo deve essere conservato trasportato a lunga distanza deve essere lavorato una grande perdita durante la lavorazione una grande perdita durante la commercializzazione al dettaglio e infine una perdita a livello delle famiglie perché quello che succede per esempio in Italia è che una famiglia spreca 450 euro di cibo all'anno ecco questo servirebbe ad alimentare 14 servirebbe ad alimentare 1,3 miliardi di persone al mondo quindi questo sistema oltre ad avere degli input pazzeschi produce una perdita di uno spreco di cibo che è un problema anche di impatto ambientale notevole allora questi sono gli andamenti della produzione di carne dal 2000 ad oggi la produzione di carne è aumentata complessivamente da 220 mila tonnellate a 350 mila tonnellate negli ultimi 50 anni la popolazione di polli volatili a livello mondiale è aumentata di 6 volte ci sono 35 miliardi di polli nel mondo questa è la rappresentazione della quota di polli in allevamento rispetto alla faula serbatica la faula serbatica ormai è una minoranza del volume di proteine a livello mondiale i bovini sono un miliardo e quattrocento mila bovini a livello mondiale che sono quasi due volte il volume di proteine costituita dell'uomo i suini sono aumentati di una volta e mezza e sono un miliardo di suini a livello mondiale voi immaginate il peso ambientale di questo sistema alimentare per dire questi sono i dati della pianura padana forse non tanto recenti ci sono 15 milioni di 16 milioni di abitanti ma i carichi inquinanti equivalgono a 114 milioni di abitanti equivalenti e il 33% di questo è il carico dovuto all'agricoltura e agli allevamenti ci sono prelievi idrici per 20,5 miliardi di metri cubi anno e gli usi potabili sono un decimo di questa quantità questo dall'idea del volume di impatto che il sistema agroalimentare ha sull'ambiente l'agricoltura ha un impatto tagliami quando ho 5 minuti di tempo dimmi quando ho 5 minuti l'agricoltura ha un impatto pazzesco sul cambiamento climatico il 33 il 30% è stimato che il sistema agroalimentare abbia almeno il 30% di emissione di gas serra equivalenti ha un impatto sulla qualità dell'aria sulla qualità dell'aria per esempio gli studi condotti da Arpa Lombardia Ampia Emilia Lomagna documentano come al momento dello spandimento dei liquami sui terreni quindi ammoniaca vi è un picco di PM2 5 PM10 ma questo l'abbiamo registrato durante la pandemia dove è calato il traffico e quindi gli NOx sono documentatamente ridotti ma non si è parallelamente ridotto il PM perché il PM il particolato secondario è frutto anche della combinazione in atmosfera degli inquinanti secondari che vengono originati dall'agricoltura vi è un problema di inquinamento chimico enorme che è probabilmente uno dei problemi principali e vi è un problema sottaciuto ma emergente di antibiotico resistenza negli Stati Uniti l'80% degli antibiotici viene utilizzato negli allevamenti per far sopravvivere gli animali in quelle condizioni questo l'ho già detto il sistema agroalimentare è responsabile fino al 30% delle emissioni totali di gas serra e l'agricoltura rappresenta circa il 10% delle emissioni dell'UE alimentarsi con 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 la carne con la carne da sotto qualsiasi forma vuol dire fare uno spreco energetico pazzesco perché vuol dire che si consuma 10 volte più di energia rispetto a un'alimentazione vegetale perché il passaggio energetico da un tipo di derrata alimentare all'altra provoca una perdita di energia diretta allora l'espansione intensificazione dell'uso del suolo a fine agricoli provoca una serie di problemi che abbiamo vissuto innanzitutto il problema dell'uso del suolo e dello spillover e quindi il distorto uso del suolo e la commissione tra animali tra vita animale tra vita animale tra animali in allevamento uomo e animali selvatici è una delle cause principali del ad esempio l'influenza aviaria c'è stata una perdita pazzesca di avicoli negli allevamenti in Europa perché lo spillover che è avvenuto una decina di anni fa in Cina si sta continuando a provocare questo effetto in Anatolia l'80% delle antilopi sono state distrutte per il salto di specie della peste dei piccoli roditori e questo è avvenuto un anno fa ok vado veloce questo sistema provoca una riduzione della qualità nutrizionale un'insicurezza alimentare la resistenza antibiotica la qualità dell'aria e problemi dell'inquinamento agrochimico vado oltre l'inquinamento agrochimico è un problema questa è la mappa dell'inquinamento da metalli pesanti soprattutto il cadmio in Europa e la pianura padana è una delle situazioni più critiche ma soprattutto il problema dell'inquinamento da pesticidi nelle acque superficiali e profonde questo sono i prodotti del rapporto del rapporto che è uscito tre giorni fa dell'ISPRA che documenta come l'inquinamento da delle acque superficiali sia diffusissimo in tutta più si va a cercare più si trova inquinamento e nelle acque profonde le acque profonde sono utilizzate per alimentare gli acquedotti e vi si trovano anche decine e decine di composti chimici che hanno un effetto molto importante sia dell'inquinamento che questo invece è l'impatto dei fertilizzanti è uno studio recente che dimostra come andando avanti di questo passo non ci allineiamo con gli obiettivi di riduzione degli obiettivi climatici di Parigi se non modifichiamo radicalmente l'uso di fertilizzanti nei terreni agricoli perché abbiamo già superato poi i pesticidi si trovano ovviamente nella catena alimentare e gli effetti dei pesticidi sono su una vasta gamma noi siamo portati solo a pensare ai tumori in realtà c'è un impatto questo è una sintesi degli studi positivi su una serie di malattie quindi sulle malattie metaboliche sulla tossicità del neurosviluppo sulla tossicità riproduttiva sulla tossicità sulla neurotossicità i pesticidi soprattutto alcuni pesticidi sono considerati all'origine del Parkinson riconosciuto il Parkinson come malattie professionali degli agricoltori in Francia e poi i maggiori studi sono sui tumori i pesticidi hanno un effetto molto precoce quindi in fase di gravidanza e molti pesticidi sono neurotossici questo è collegato con una difficoltà al neurosviluppo che si manifesta nelle primissime fasi della vita il risultato finale di tutto questo sistema è che noi siamo alimentati che il mondo è alimentato da pochissime varietà di alimenti cereali mais riso e soia ci sono 140 mila specie edibili il sistema agroalimentare è uniformato a questo tipo di produzione il problema è che tutto questo sistema provoca un impoverimento della qualità nutrizionale e un impoverimento e qui chiudo della biodiversità la biodiversità è un aspetto fondamentale trascurato l'IPBES che è l'equivalente dell'IPCC continua a lanciare allarmi sulla perdita di biodiversità uno dei punti chiave è la perdita di biodiversità dei suoli vi è una stretta relazione tra la biodiversità del suolo e la qualità del microbioma umano e nel senso che il microbioma umano è cioè quello della pelle quello dell'intestino quello delle vie aeree è un elemento fondamentale che mette in relazione l'ambiente interno il corpo umano interno quindi i geni il funzionamento del sistema immunitario il funzionamento del sistema neuroindroclino con l'ambiente e vi sono numerosi studi che documentano la relazione tra la qualità del microbioma umano e le malattie che vanno che vanno per la maggiore chiudo dicendo che il passaggio che dobbiamo fare è quello di passare a un'agricoltura diversa chiudere i cicli a livello locale pensare a un diverso uso del territorio noi come ISDE puntiamo molto a pensare un uso diverso del territorio alla difesa delle aree interne alla difesa della piccola agricoltura dell'agricoltura locale biologica in modo da chiudere i cicli a livello locale uno studio condotto dall'università di Milano ha documentato come la Lombardia potrebbe essere autosufficiente dal punto di vista della produzione alimentare purché si mettano in campo la chiusura dei cicli la relazione tra il produttore e il cittadino e il consumatore purché le messe scolastiche acquisiscano i cibi locali e prodotti biologicamente ecco secondo me dovremmo pensare a mettere a pensare avvertenze locali perché ci sia un uso diverso del territorio vengano sostenute la piccola agricoltura che altrimenti non regge invece come fa la PAC della grande agricoltura dei grandi ettari dei grandi produttori di alimenti in modo che a quel livello si cominci anche a pensare un uso diverso del territorio e a ridurre il consumo di suolo purtroppo sono andato troppo di corsa grazie a Celestino Celestino non l'ha detto ma da poco ho curato un testo su agricoltura l'hai mostrato all'inizio scusatemi allora sono un disastro io perché ero a rispondere al telefono anzi benissimo altro tema Marco voleva aggiungere una battuta nel frattempo che la Maria Giorgione si presenta vedendo le figure dello squilibrio tra le nutriti dei paesi con crisi alimentare e gli obesi della zona industriale e ricca mi veniva mi veniva in mente mi veniva in mente la modesta proposta di John Da Swift che è un libro dell'autore di Gulliver che ha scritto questo pamphlet diciamo satirico e provocatorio in cui sostanzialmente diceva per risolvere il problema dei bambini poveri e della sovrappopolazione irlandese la soluzione che lui proponeva era quella di ingrassarli apposta di allevarli per ingrassarli e poi darli in pasto ai proprietari terrieri si potrebbe dire fare il contrario i ricchi e obesi e darli in pasto ai poveri diciamo così nelle zone di crisi ambientale per riequilibrare tutta la situazione vieni qua che ti sentono anche online basta anche di qua non funziona si c'è anche questo va bene mi parla a sentire online poi ti aggiro allora per chi non la conosce Nariangela Rosolen è una grande attivista qui a Torino e in tutta la nostra provincia in particolare per Attac sui temi che riguardano l'acqua pubblica promotrice del referendum 2011 ormai non mi ricordo nemmeno più le date e poi si sta anche molto battendo qua a Torino per la medicina territoriale in particolare ha condotto insieme ad altri gruppi e ai ragazzi di Torino anche centri sociali una battaglia per la riapertura di un ospedale che si chiama Maria Adelaide e forse i torinesi lo ricordano perché era una struttura di vicinanza una delle più conosciute perché le persone andavano a fare tutte quelle operazioni secondarie tipo togliersi un gesso o altre cose che erano straordinariamente utili e adesso invece forse diventerà sede di un ostello per le università di non si sa bene a te la parola Maria Angela ti lasciamo 20 minuti circa certo che dopo il professor Panizza parlare di acqua o sei un un iper esperto oppure si rischia di dire banalità e io cerco di evitare di correre quel rischio anche se l'accenno che ha fatto adesso Enzo al Maria Adelaide in un ambiente come questo di operatori della sanità mi costringe a dire che malgrado la mobilitazione della popolazione malgrado tutti i dati epidemiologici economici sociali culturali dicano che in un intero territorio di circa 90.000 metri quadri di Torino come il Borgo Aurora Rossini eccetera che è privo di un ospedale pubblico alla regione e purtroppo al comune anche se in maniera meno evidente si chiudono le orecchie gli occhi e tutti i sensi percettivi e si lascia deperire una struttura che è essenziale per quel territorio se la prevenzione è la base di ogni pratica medica per prevenire prima di curare e purtroppo questa è una battaglia che secondo noi ha contribuito molto anche all'assentismo al voto ultimo perché tanti cittadini hanno perso la fiducia che le istituzioni li ascoltino e rispondano ai loro bisogni a parecchi dei nostri che abbiamo detto comunque il voto è irrinunciabile eccetera no io non vado più a votare guardi il Maria dell'Aide e purtroppo pare che chi di dovere continui a non sentire dicevo che si rischia di dire delle banalità sull'acqua dopo il preso Panizza perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando appunto mi è stato detto di dire qualcosa su questo è talmente ovvio viviamo ancora questa realtà della pandemia ed è la prima raccomandazione che i medici per primi fanno gli uffici sanitari lavatevi le mani bene tenetevi le mani pulite lavatevi le mani bene appena arrivo a casa vado in bagno apri il rubinetto mi sciacquo bene le mani per almeno 20 secondi eccetera ma in bagno c'è anche un altro apparecchio sanitario che quasi nessuno chiama tazza e che tutti mi pare chiamiamo water water è water in inglese in inglese pensate questa struttura sanitaria in tutte le nostre abitazioni ha un nome ormai comune inglese water e forse esco dalla banalità se ricordo che la risoluzione del 2010 delle Nazioni Unite che ha garantito a livello mondiale almeno teoricamente il diritto all'acqua per tutti i cittadini e parliamo di acqua potabile perché per l'acqua consumata in agricoltura abbiamo visto le dimensioni molto maggiori perfino maggiori di quelle dell'acqua per l'industria l'acqua potabile deve essere garantita dicono le Nazioni Unite a tutti gli abitanti e a tutti gli esseri viventi del mondo ma gli abitanti soprattutto l'acqua potabile garantita a tutti non solo l'acqua potabile ma guardate che la risoluzione delle Nazioni Unite aggiunge acqua potabile e i servizi igienico sanitari nessuno lo ricorda mai tutti pensiamo apre un robinetto l'acqua è quella bon però l'importanza del servizio igienico sanitario è altrettanto rilevante e bisogna dire che su questo aspetto c'è una disinformazione come minimo quando non è trascuratezza quando non è ignoranza voluta perché chi fa politica non può ignorare queste cose e devo dire qui dopo aver sentito il professor Viale che ci sono due documenti ufficiali che girano almeno per l'Italia ce ne sono anche in altri paesi ma i nostri in Italia guardate che a tutt'oggi noi come attacche comitato acqua cerchiamo di leggere di aggiornarci sono due documenti ufficiali che parlano di acqua potabile e servizi igienico sanitari uno è la laudato sì che sembra scritta assieme a noi ma sicuramente da alcuni eminenti intellettuali che hanno collaborato alla redazione di quel documento penso il professor Becchetti ed altri sicuramente c'è questo scambio questa corrispondenza e l'altro non stupitevi se lo cito ma è un dato oggettivo il programma elettorale delle ultime elezioni politiche di Unione Popolare quando ho letto quel programma mi sono detto ma no qui c'è tutto ma non come in altri programmi di altri partiti adesso non faccio la propaganda per Unione Popolare intendiamoci bene per raccontare un fatto concreto se andate a vedere in tutti gli altri programmi partitici l'acqua è un bene l'acqua va garantita l'acqua tutelata eccetera stop no quello ti dice come tutto sommato lo stesso modo sia pure più generale dell'allaudato sì come si garantisce l'acqua secondo per esempio i documenti delle Nazioni Unite e viene fuori una visione dell'acqua che è quella del bene comune e anche qui rischiamo la banalità il luogo comune perché chi non parla di bene comune oggi pochi pochissimi perfino i grandi e le grandi multinazionali dicono quelle dell'agricoltura per esempio che vogliono garantire l'acqua eccetera eccetera il bene comune rischia anche questo di diventare un'espressione banale un perché andando avanti di questo passo sono un bene comune anche gli spaghetti per noi italiani un paio di scarpe d'inverno tutti ne hanno bisogno e veramente il tradimento che viene fatto al movimento dell'acqua e quindi anche alla possibilità di di connettere la gestione dell'acqua con la gestione della vita umana e della salute è proprio la banalizzazione dei concetti che lasciano che si perdono nel vago nelle buone intenzioni e nel concreto vanno in tutt'altra direzione in Italia nel mondo sappiamo che ci sono miliardi di persone che ancora non hanno accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari l'acqua potabile e nemmeno i servizi igienico-sanitari sappiamo che in Italia noi stiamo correndo il pericolo che venga e in alcune situazioni città italiane questo già avviene a Torino lo abbiamo evitato con una lotta un impegno nei confronti di SMAT le amministrazioni comunali eccetera di chiusura del contatore per morosità che è un pericolo che diventa sempre più grave con la crisi economica con le bollette che sappiamo eccetera SMAT tanto per dire per quest'anno ha detto non aumento la tariffa SMAT fa utili e può in qualche modo compensare le maggiori spese però si chiude il contatore dell'acqua sia a chi non può pagare sia anche a chi non paga perché fa il furbo senza distinguere l'amorosità colpevole da quella incolpevole la incolpevole che richiede una solidarietà che penso siamo tutti disposti a dare e caricarci eventualmente quelle quote o sulla tariffa o in parte dividendola personalmente oppure con l'amministrazione comunale che interviene a sostegno di quelle famiglie di quelle realtà ma l'amorosità incolpevole perché me la metti insieme come se fosse la stessa cosa e questa è una decisione nazionale presa dall'autorità per l'energia elettrica le risorse idriche e il gas perché tratta l'acqua come una merce come il petrolio come il gas e come l'energia e quindi chi non paga niente non ha i soldi per la benzina va a piedi o prende il tram per l'acqua la stessa cosa e quindi ecco che il discorso da banalità diventa concreto reale e mobilitante se cerchiamo di entrare ecco di evitare appunto la banalità perché non solo ho bisogno di levarmi le mani molto spesso tutte le volte che rientro a casa per cercare di evitare il covid ma perché l'acqua diventa inaccessibile se viene gestita come una merce qualunque e la battaglia che stiamo facendo e che dovrebbe vederci molto più forti c'è un provvedimento del governo precedente che adesso vediamo come va avanti nel nuovo parlamento che addirittura riapre la strada che avevamo tentato di chiudere nel 2011 col referendum con il 95% dei votanti italiani che ha detto che l'acqua doveva rimanere pubblica e non doveva essere gestita a scopo di lucro secondo referendum no al profitto sull'acqua che si è dimenticato adesso pare in questo decreto attuativo della legge delega sulla concorrenza che la concorrenza voi come sapete è il toccasana del mercato mettiti in concorrenza con l'altro e sicuramente le cose vanno bene noi abbiamo prezzi più bassi e riapre la strada alla privatizzazione impedendo ai comuni e noi nella nostra realtà tolinese metropolitana abbiamo un'azienda che è di proprietà pubblica dei comuni è gestita purtroppo come fosse una azienda privata a fini di lucro e fa utili come dicevo prima ma se io non dispongo dell'acqua perché non ho i soldi per pagare la bolletta ma se io sono un rom in un campo non proprio autorizzato e gestito secondo le regole ma se io sono come succede un ex comunitario che vive dentro a un deposito sotto una chi non ha la possibilità ma se io sono anche un centro sociale come Manituana dove si raccolgono decine centinaia di ragazzi possono piacere o non piacere però studiano lavorano fanno sport eccetera insieme ebbene siccome hanno occupato quel vecchio edificio abbandonato e lo fanno vivere a modo loro è vero perché gli togli l'acqua non hanno l'acqua ma vi pare possibile a Torino e con i pericoli che questo comporta per la loro salute per l'igiene per lo stare ecco non ripeto non volevo non volevo occuparvi molto tempo più che altro una denuncia quella che faccio e un invito anche da parte dei medici i quali soprattutto dal punto di vista della medicina di territorio dovrebbero anche se le leggi purtroppo non gli aiutano più avere presente la condizione socio sanitaria ma anche economica e sociale appunto dei loro pazienti dove vivi che cosa fai in questo modo è qui dove la medicina di territorio dovrebbe intervenire e non interviene perché è stata appena avviata in qualche ragione sarete d'accordo con me o dove è stata avviata come nella nostra ragione progressivamente sta si sta la stanno smantellando quindi l'acqua e la salute davvero sono l'elemento essenziale per la vita senza acqua possiamo vivere senza petrolio ma non senza acqua elemento essenziale per la vita e dentro a questo la nostra salute dipende appunto dalla sua fruibilità e non solo dal suo prezzo il prezzo deve essere quello che peraltro le leggi europee e nazionali stabiliscono il costo il prezzo della bolletta deve coprire tutti i costi di investimento e di gestione quindi noi in bolletta paghiamo i 130 milioni dell'acquedotto da Val di Susa il collettore mediano che adesso la SMAT sta costruendo saranno pagati tutti da noi in bolletta perché fare profitti ancora su questo per dare degli utili al comune che sicuramente è mi fermo qua perché travalico l'ambiente e l'argomento sanitario grazie per l'ospitalità no no fermati un momento perché io cerco di mettere insieme un po' di cose poi più avanti parleremo anche di TAV di inquinamento e dato che abbiamo entrato il regista Massimiliano Mazzotta del film che proietteremo questa sera non so se Massimiliano se ne ricorda ma prima della tua premiazione è stato premiato un film sull'acqua e ci fu l'assessore un rappresentante del comune di Torino che era un periodo di grossa siccità parlando di acqua fece per lui sembrava per lei perché era una ragazza giovane fece una battuta disse l'acqua non arriva più l'acqua dalle montagne vorrà dire che cambieremo e sarà Torino che dovrà portare l'acqua in montagna è una paradossale come posso dire è paradossale però è un assurdo tale cioè significa che in quella mente non c'è la minima idea di cosa significhi questo e che ci sia un'idea anche che ne so dell'acqua come prodotta in un'industria di Torino che la porta su in montagna nel migliore dei casi non so se ti ricordi a me mi aveva veramente colpito questa incapacità di cogliere cosa sto dicendo cosa stai dicendo solo questo ecco volevo dirti questo grazie mille Marco il prossimo dovrebbe essere Romizzi dico bene di Isde c'era un bicchiere d'acqua ancora qui adesso facciamo partire le slide tu hai questo microfono allora vediamo se riusciamo un attimo solo che sulla parte tecnica siamo un po' più deboli è questo vero? era il pdf era proprio uscito il convegno ho visto l'avevi aperto prima potrebbe essere questo questo ok dobbiamo spegnirlo su zoom è questo? si aspetta facciamo se me lo allarghi vai qua e non lo iniziamo quindi adesso ce la diamo qua così no non va bene andiamo su zoom possiamo proiettarla così Antonio va bene porta pazienza si vede viene dietro tu hai la slide che è proiettata e quella che si 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 bene intanto vorrei ringraziare gli amici di medicina democratica per avermi invitato a questa iniziativa devo dire che talvolta abbiamo collaborato anche in passato qui ci sono tre iniziative sulla quale abbiamo collaborato ma sono sempre troppo poche l'auspicio è che aumenti questa opportunità di collaborazione insieme abbiamo promosso questo convegno sui procedimenti penali per i tumori professionali giustizia e ingiustizia il ricorso alla strada della Toscana sull'ampliamento dell'aeroporto di Firenze e il convegno amianto e mesotelioma tutti innocenti aspetti biologici ed epidemiologici dell'esposizione ad amianto e conseguenze giuridiche ci accomuna anche avere avuto dei grandi padri fondatori da una parte manca caro dalla nostra Lorenzo Tomatis che fra l'altro collaboravano si conoscevano e si stimavano anche fra loro ho riportato qui una delle tante frasi che loro condividevano in questa diapositiva vedete sulla sinistra quelle che sono alcune delle tematiche principali della nostra associazione che ormai ha oltre 30 anni sulla destra tematiche nostre riportate nostri ma i comuni riportate sulla newsletter di Medicina Democratica ma veniamo all'argomento odierno le pandemie attuali principali sono le emergenze attuali principali sono la pandemia e la guerra e non dobbiamo dimenticarci però della crisi ambientale climatica alla quale accennerò successivamente queste due emergenze sono molto diverse perché la pandemia ha mostrato l'interdipendenza e la comune fragilità dell'umanità l'insensatezza dei confini dei conflitti identitari e la disponibilità e la solidarietà delle popolazioni e dei governi al contrario la guerra sta generando odi tra i popoli logiche politiche dell'amico nemico lacerazioni tra nazionalità che non sarà facile recuperare si aggiunge l'emergenza pandemica alle crisi climatico ambientali persistenti per cui abbiamo un alto numero di decessi per questioni sia ambientali che socio-economiche inoltre le caratteristiche della pandemia sono l'aspetto e la polarizzazione che questa ha avuto e tutti ne siete consapevoli per quello che appariva continuamente ora un po' sicuramente meno a causa della questione guerra che sta prendendo ancora di più i nostri media ma soprattutto ha mostrato l'ineadeguatezza delle nostre istituzioni sia nazionali che internazionali a fronteggiare le emergenze globali la stessa organizzazione mondiale della sanità ha mostrato dalla scarsa autorevolezza nel gestire queste questa criticità che è stata e che è la pandemia non solo per la carenza di mezzi che sono e sembrano tanti ma non sono tanti per un'organizzazione mondiale 5 miliardi ogni due anni peraltro quasi tutti provenienti da privati ma soprattutto per la mancanza di effettivi poteri nei confronti degli stati in Italia in particolare ha evidenziato la cattiva gestione di questa i limiti del servizio sanitario pubblico cosa a cui si è accennato più volte anche stamani che ha messo in evidenza come invece un servizio sanitario pubblico ben organizzato poteva molto meglio gestire la situazione e ha anche evidenziato le criticità collegate a un regionalismo differenziato a un servizio sanitario nazionale poco finanziato poco attento alla prevenzione e sempre più orientato alla privatizzazione della sanità oggi ormai l'emergenza principale è quella bellica però non dobbiamo dimenticare tutte le altre guerre questa attuale viene sicuramente saltata anche in modo eccessivo però ci sono molte altre guerre almeno un'altra sessantina nel mondo che non erano state prese in considerazione più di tanto questa però fa comodo prenderla in considerazione come viene presa peraltro questa guerra come è stato detto fra l'altro anche dal professor Viale provoca danni ambientali ma anche su tutti gli atti determinanti di salute non dimentichiamo la questione delle testate nucleari né quella della facilità della circolazione delle armi tutte collegate a un problema di disarmo come ISDE noi già dal dal marzo di quest'anno quando era venuta fuori la questione bellica avevamo sollecitato la nostra federazione nazionale affinché prendesse un'iniziativa europea che tenesse anche conto delle criticità climatico ambientali e che si raccordasse con i medici con i medici russi ma non fu in realtà questo era abbastanza complicato infatti non è stato possibile successivamente insieme all'associazione medici cattolici con i quali abbiamo interagito per la prima volta anche perché su questa questione sono in sintonia con Papa Francesco come diceva prima anche il professore anche io sono agnostico ma su questa questione Papa Francesco come su tutte quelle collegate sui determinanti di salute è un punto di riferimento unico ed eccezionale da allora ci sono state varie iniziative vari appelli per diminuire le spese militari e per avere una conferenza internazionale di pace ne cito solo una che sarà breve dal 21 al 23 ottobre di questa rete europea for peace comunque ce n'è molte altre che comunque temo che non porteranno a un gran che ma veniamo alla tematica di riferimento che è quella dell'emergenza ecologica o climatico ambientale che comunque rimane la minaccia più grave per il futuro dell'umanità è aggravatasi dalla guerra è legata ad un modello di sviluppo connesso ad un'economia lineare che sfrutta le risorse in una visione di brevissimo termine finalizzata alla massimizzazione del profitto ed è collegata con i vari negazionismi noi vediamo che negli ultimi anni la mortalità da inquinamento è aumentata di almeno due terzi questa va a causare quasi 10 milioni di morti ogni anno a livello globale che vanno a interessare soprattutto le popolazioni più più fragili sia a livello nazionale che a livello internazionale soprattutto è importante mettere in evidenza come la triade inquinamento a tutto tondo cambiamento climatico e perdita della biodiversità sono le principali questioni globali del nostro tempo di cui bisogna tener conto e che purtroppo quello che diciamo anche in modo timido cercavamo di fare anche nel nostro paese in Europa e nel mondo occidentale in genere di orientarsi verso le forme rinnovabili di energia sta facendo un passo indietro che collegano con la guerra ma che comunque il risultato sarà andare anche verso un'energia nucleare che si sarà pulita ma in tutti i casi ci vorranno molti molti anni perché questa sia utilizzabile sempre che non permanga in realtà il rischio l'altra emergenza è quella della povertà per cui noi assistiamo ad una miseria crescente che causa 8 milioni di morti a livello mondiale quasi un terzo della popolazione mondiale non può nutrirsi in maniera adeguata ogni giorno muoiono 24.000 persone di cui 7.000 bambini altrettante muoiono peraltro per cure mediche e farmaci salvavita che non hanno a disposizione secondo la banca mondiale si è visto un aumento di quasi 100 milioni di nuovi poveri e soprattutto colpisce il fatto che si valuta che con poco più dell'1% del PIL mondiale si eliminerebbe ma sicuramente si andrebbe vicino all'eliminazione della povertà e questo è il bilancio annuale della difesa degli Stati Uniti l'emergenza alimentare anche questa in realtà era presente già già da tempo si è aggravata con la guerra lo vedete tutti i giorni messo in evidenza nei nostri media in particolare noi siamo abbiamo coscienza della situazione del nord d'Africa peraltro in questa realtà questa emergenza alimentare collegata proprio con problemi climatici di desertificazione il tutto determina un'emergenza migranti che sono queste persone che sono obbligate a lasciare le proprie case per motivi legati sia a fattori climatici e comunque socio-economici causati in remoto proprio dalle nostre invasioni e colonizzazioni si pensa che entro il 2050 questi potrebbero essere un miliardo soprattutto vorrei mettere in evidenza che le stragi di migranti hanno determinato come minimo 20.000 persone affogate nel Mediterraneo ancora una volta questa denuncia è stata fatta proprio da Papa Francesco le emergenze alle quali assistiamo sono tutte collegate e scendibili ve le elenco tutte mi piace metterle più in evidenza però in quest'altra diapositiva dove vediamo che i nuovi scenari sia quelli della globalizzazione dell'industrializzazione urbanizzazione via di privatizzazione delle acque riduzione delle normative a garanzia della salute pubblica e ora anche la guerra determinano per un verso l'emergenza sociale con aumento della povertà delle disuguaglianze e diminuzione dei diritti dei lavoratori dall'altro l'emergenza ambientale con aumento dell'inquinamento cambiamenti climatici e perdita della biodiversità anche emergenza migranti emergenza alimentare tutti insieme determinano i danni alla salute sia nel senso di malattie infettive che malattie cronico degenerative e tumorali che poi costituiscono appunto la pandemia e la sindemia che è l'insieme della malattia infettive e di quelle cronico degenerative l'approccio che sempre più è accreditato a livello internazionale di cui si parla ormai in tutti gli eventi è questo del One Health che mira proprio a mettere insieme tutte le professioni e ad affrontare in contemporanea possibilmente tutte le possibilità che hanno a che fare con la soluzione del problema di salute tenendo conto della salute sia delle persone che degli animali che dell'ambiente come medici come operatori sanitari potremmo fare qualcosa in questo versante diciamo siamo direttamente interessati come associazione noi abbiamo impostato questa logica del One Health fin dalla Costituzione visto che esce da allora tutte le professioni non solo sanitarie erano coinvolte nell'associazione così come l'interesse verso i vari settori della società qui richiamo un'altra cosa che ho sentito stamani cioè la necessità sempre più di fare alleanze e attualmente per l'appunto sono proprio Frates for Future una delle organizzazioni che si sta muovendo meglio ma non può essere lasciato a cominciare dal clima ma tutte quelle che sono le criticità in mano ai giovani che sono bravissimi ma non possiamo far finta che il problema non esiste ed inoltre non possiamo occuparci solo di clima ma anche delle altre cose qui cito questa alleanza questo supporto che abbiamo fatto in occasione dello sciopero per il clima del 25 marzo insieme a Frates for Future proprio a sostegno dei lavoratori del GKN noi ci troviamo di fronte a una popolazione mondiale che ormai è arrivata a 8 miliardi di persone che sono tutte collegate non è più come qualche decina d'anni fa che erano molte di meno e non c'erano interazioni siamo tutti collegati il problema è che questa è la criticità è che si sta ancora promuovendo sistemi di nazionalismi e di sovranismi che vanno assolutamente contro a quella che potrebbe essere la soluzione di tutte le problematiche la soluzione il tentativo di soluzione di tutte le problematiche di tutte le criticità che le istituzioni sia locali che internazionali non sono in grado non lo stanno facendo quelle internazionali quelle nazionali non lo potrebbero fare comunque perché non potrebbero certo prendersi in mano questo livello di criticità e anche a livello del mondo del lavoro sempre di più a causa proprio di questa globalizzazione a causa soprattutto dell'influenza delle maggiori potenze delle istituzioni internazionali delle grandi imprese internazionali il modo del lavoro è sempre più allo sbando è sempre meno garantito quindi noi ci troviamo di fronte a una inadeguatezza segnatamente delle Nazioni Unite si è neanche dichiarata l'inutilità ma questa non è sicuramente la soluzione e anche perché qualche volta le Nazioni Unite fanno qualcosa di positivo in cui vorrei citare questa assemblea sull'ambiente del febbraio marzo scorso dove sono stati presi delle risoluzioni sulla gestione dei rifiuti della plastica economia circolare e via dicendo che dopo il 2015 hanno rappresentato l'iniziativa sul clima più 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 importante per questo sarebbe necessario rilanciare una sfera pubblica sovranazionale anche se non la volessimo chiamare Nazioni Unite anche perché accanto ai diritti fondamentali siano presi in considerazione anche beni comuni fondamentali come l'acqua il clima gli acciai il patrimonio forestare l'aria per questo prendendo anche spunto da una pubblicazione di un giurista Luigi Ferraioli che ha approfondito molto bene questa tematica direi che a sfide globali dobbiamo rispondere con questo tipo di risposte che sono l'istituzione nel demanio planetario che sottragga i beni comuni e vitali appunto aria acqua foreste ghiacciai alle appropriazioni private e alla mercificazione e alle devastazioni ad opera del mercato introdurre divieti sanzionati delle emissioni di gas serra e della produzione di rifiuti istituire una corte internazionale con il potere di intervenire su queste criticità devo dire che l'Italia ci sarà impegnata su questa già nel 92 a Rio de Janeiro quando provò a lanciare insieme ad altri il tribunale internazionale per l'ambiente senza successo perché le grandi potenze si opposero ci ha riprovato con altre terminologie più recentemente più volte anche solo in Europa ma purtroppo senza successo metto qui in evidenza ad hoc questa necessità di promuovere un progressivo disarmo non soltanto nucleare e poi vista anche la sede un'altra risposta globale è quella della unificazione del diritto del lavoro e la globalizzazione delle garanzie dei diritti dei lavoratori in grado di assicurarne l'uguaglianza e la dignità contro l'odierno sfruttamento illimitato e con questo concludo vi ringrazio ringraziamo Roberto Romizzi ci tengo a dire che esattamente dove è seduto lui era presente Luigi Ferraioli sabato scorso e quindi ci ha fatto un intervento qui su temi legati al movimento di difesa della terra i ragazzi di Fridays for Future invece sono stati protagonisti in questa stessa sala di una manifestazione insieme con giovani attivisti egiziani perché non so quanti di voi lo hanno notato ma non so se sapete che la prossima COP27 cioè la conferenza internazionale per l'international panel sui cambiamenti climatici si terrà a il Cairo no Sharm el Sheikh in Egitto e i giovani insomma diciamo che c'è una piccola contraddizione da parte di un organismo dell'ONU e su questo facendo una battuta dico è un po' come se facessero i mondiali di calcio in Quatar ecco per dire come assurdità allora grazie Roberto io invito quindi Laura Centemeri a salire sul palco l'intervento di Laura riguarda prendo il titolo salute ambientale e ambientalismo scientifico medicina democratica Laura Conti e la prova di Seveso presento Laura recentemente è entrata un po' più in relazione con noi perché ha anche scritto un articolo che comparirà sui prossimi numeri della rivista un po' sulla storia di medicina democratica e dell'episodio di Seveso e in realtà è un inseguimento che dura da tanto tempo perché ci occupiamo di temi che sono vicini tu sei una sociologa una sociologa si occupa quindi la storia dell'ambiente lo dirà meglio lei la figura di Laura Conti è ciò che in questo momento più ci avvicina come interessi sempre qui poco più di un mese fa insieme con gli amici della fondazione Michletti di Brescia abbiamo fatto abbiamo ricordato la figura anche di Giorgio Nebbia di nuovo i temi dell'ambiente della salute della pace si ritrovano troppo tempo già preso scusami Laura a te altri 20 minuti grazie mille allora innanzitutto il mio ringraziamento per questo invito in particolare appunto Enzo che è il mio legame con medicina democratica e per me è un vero onore perché appunto considero medicina democratica una delle storie più originali interessanti di intreccio diciamo tra le lotte per la salute sul lavoro e le lotte ambientali ambientaliste e penso che sia un'originalità che va ben al di là del solo contesto italiano e sono in buona posizione per giudicarlo perché sono appunto come dicevi ricercatrice in sociologia e ho fatto il dottorato in Italia però poi ho proseguito la mia attività scientifica all'estero dunque attualmente lavoro al Seneres che è il centro nazionale delle ricerche francese e dunque come molti dei miei colleghi ho fatto questa scelta nel 2008 di andare via e penso che non abbiamo ancora misurato l'impatto del fatto che moltissimi ce ne siamo andati con la riforma Gelmini che diciamo era veramente difficile specie per chi lavorava su dei temi che erano ancora visti come minori tipo l'ambiente portare avanti un'agenda di ricerca in autonomia in Italia era veramente impossibile io sono andata via per quello perché non mi facevano lavorare su quello su cui volevo lavorare però ecco ho mantenuto un forte legame con l'Italia perché ho continuato a fare ricerca sull'Italia cioè l'Italia è rimasto il mio terreno di ricerca io lavoro sui movimenti ambientali dunque da un punto di vista socio-storico e diciamo anche con la volontà di produrre un sapere che sia rilevante anche per i movimenti stessi diciamo che possa entrare in dialogo con i movimenti stessi e dunque porto avanti ormai appunto è vent'anni dal mio dottorato questo lavoro che si interessa a come emergono i problemi ambientali come sono emersi i diversi problemi ambientali in Italia e il ruolo dei movimenti in questa immersione e mi sono sempre interessata su questo periodo dagli anni 70 ad oggi privilegiando un approccio di tipo monografico cioè mi sono interessata a dei casi specifici dunque la mia tesi l'ho fatta sul disastro di Seveso su cui oggi tornerò in particolare ho ragionato sul dopo Seveso infatti poi il libro che è stato tratto da questa mia tesi si è intitolato Ritorno a Seveso e volevo appunto ragionare su che cosa fosse il danno ambientale cosa volesse dire riparare un danno come quello che era successo a Seveso con la contaminazione da diossina però poi mi sono anche interessata ad altre situazioni tipo quella di Malpensa dunque ormai 50 anni di aggressione continua di ampliamento dell'aeroporto di Malpensa nel territorio del parco del Ticino e invece più di recente mi sto interessando a diciamo ai movimenti di opposizione all'industrializzazione dell'agricoltura dunque faccio il legame con l'intervento che abbiamo avuto prima e dunque anche sull'arrivo dell'agroecologia in Italia con altri ricercatori e ricercatrici italiani abbiamo dato vita nel 2017 a una rete italiana di ricerca di ecologia politica la rete POE che ha sede all'università di Pisa ed è una rete con cui cerchiamo di fare un lavoro intellettuale e culturale un po' di fondo e in dialogo con le forze sociali dunque anche noi in dialogo con i giovani di Fridays for Future anche Extinction Rebellion altri gruppi e altre diciamo forme di movimento contemporane e nel fare questo ci ispiriamo cerchiamo insomma di ispirarci al modello dell'ambientalismo scientifico e politico come fu concepito da personaggi appunto come Laura Conti Giorgio Nebbia Virginio Bettin Dario Pacino e tanti altri e tante altre con loro e al tempo stesso diciamo ci ispiriamo da questa eredità che per noi è un'eredità di metodo di strumenti però cerchiamo appunto di farla evolvere o cerchiamo di farla evolvere per andare verso quell'articolazione tra coscienza di classe e coscienza di specie di cui già parlava Laura Conti nei suoi scritti e dunque voglio proprio citare Laura Conti perché rimane comunque diciamo nel suo modo di scrivere così diretto una grande fonte di ispirazione lei scriveva appunto in che cos'è l'ecologia nella seconda edizione di questo libro scriveva non ci si può più limitare a porsi come classe nei confronti delle altre classi ma bisogna porsi come specie di fronte alla globalità del mondo al tempo stesso bisogna evitare i rischi impliciti nel porsi come specie posizione che in certi casi va a vantaggio di una classe contro le altre è già vero che si deve prendere in esame il rapporto fra la specie umana e la globalità del mondo e che perciò il modo tradizionale di fare politica è inadeguato ma è ancora vero che la società è divisa in classi che attingono alle risorse del mondo in misure troppo diverse per dare a tutti la possibilità di sopravvivere e perciò il modo tradizionale di fare politica non è ancora superato sta nascendo un mondo nuovo e nasce con difficoltà ma c'è mai stata una nascita facile? visibilmente diciamo la gestazione di questo mondo nuovo è ancora in atto insomma questa nascita è molto più complicata insomma è molto complicata però certo non perdere la memoria che è perlomeno dal 70 diciamo dagli anni 70 che questo mondo nuovo che deve articolare e anche questa nuova politica che deve sapere articolare coscienza di classe e coscienza di specie sta cercando di venire al mondo insomma secondo me è da riflettere cioè anche uscire da un certo presentismo che sia tutto nuovo che oggi il problema è nuovo non è nuovo è almeno appunto dagli anni 70 che il problema è già presente nella sua dimensione globale e diciamo magari con altri nomi che oggi diamo ai problemi ma i problemi sono sempre quelli da qui l'interesse anche della presenza di una ricerca storica sulla contemporaneità su questo tempo molto vicino a noi ma è interessante ritornarci e secondo me è utile ritornarci con gli strumenti della storia non semplicemente con la testimonianza perché la testimonianza ha comunque alcuni limiti del fatto di essere dentro quella storia e dunque di non vederne alcuni aspetti e venendo ad oggi e dunque alla mia presenza qua allora ci separano ormai quasi 50 anni dal disastro dell'Icmesa e della Diossina nel 2023 sarà appunto il 47esimo anniversario del disastro e perché sia importante tornare su quel disastro perché io sostengo che sia una pagina istruttiva per i movimenti di lotta per la salute e per l'ambiente proprio perché fu una pagina poco gloriosa non fu particolarmente gloriosa la pagina di Seveso però penso appunto come ha scritto Zvetan Todorov che le pagine meno gloriose del nostro passato sarebbero le più istruttive se solo accettassimo di leggerle per intero io non posso qua nel tempo che ho per parlare diciamo riassumere il cosa è stato il 10 luglio 1976 a Seveso dunque l'esplosione scusate la fuoriuscita dall'Icmesa da questa fabbrica chimica di una nube carica di diossina diciamo che a me interessa ritornare su Seveso per ragionare su quello che già a Seveso era chiaro del nesso salute ambiente e del modo di tradurre o di fare presente politicamente questo nesso e poi c'è questa cosa interessante che il disastro di Seveso in medicina democratica è lo stesso anno nel senso che il convegno il primo congresso nazionale di medicina democratica ha proprio luogo il 15-16 maggio 1976 e in apertura del congresso del primo congresso nazionale appunto Giulio Macaccaro presentò questo movimento di medicina democratica come un movimento partecipativo destinato a potenziare i gruppi spontanei creati all'interno delle fabbriche all'esterno nel territorio nelle scuole negli ospedali nelle altre istituzioni e dunque quando nel luglio 1976 appunto c'è questo evento di Seveso dunque la contaminazione di una parte della brianza milanese dalla diossina fuoriuscita dall'Icmesa praticamente quello viene un po' visto come un banco di prova per questo neonato movimento e purtroppo appunto poi Giulio Macaccaro verrà a mancare nel gennaio 1977 dunque anche questo è stato un elemento comunque da tenere in considerazione e diciamo che la la questione a Seveso fu che non emerse una mobilitazione delle vittime diciamo di fatto non esistono vittime del disastro di Seveso diciamo che si siano rivendicate come tali nella sfera pubblica portando una domanda di giustizia oggi abbiamo sentito questa storia incredibile di Viareggio di questo appunto di questa soggettività delle vittime ecco a Seveso non c'è stato niente diciamo di simile e è vero che diciamo la difficoltà che il Comitato Tecnico Scientifico Popolare che fu invece il gruppo che si costituì a sostegno diciamo che cercò di sostenere la partecipazione ecco la difficoltà che questo che il Comitato incontrò a Seveso portò a una certa valutazione pessimistica portò a un pessimismo nel banchetto dei libri c'è quel volume con gli scritti in onore di Maccacaro in cui c'è questo contributo di Giorgio Bignamis se volete andarlo a riprendere in cui Giorgio Bignami parla del cedimento che c'è stato a Seveso che appunto semina sfiducia nel movimento dice praticamente è il segnale del cessato allarme cioè ha una lettura di Seveso come il momento che praticamente inaugura poi la possiamo dire la marcia dei colletti bianchi a Torino diciamo vede una relazione tra l'impossibilità a Seveso o la difficoltà a Seveso di creare questo fronte di denuncia con poi quello che succederà di lieva poco e dunque lo vede vede Seveso come il fatto che da un certo punto di vista istituzioni anche i sindacati molta gente dice sgomenta intimidita sostanzialmente non si oppone a un certo modello di sviluppo neanche di fronte alle estreme conseguenze cioè al fatto che si è dovuta evacuare una parte della popolazione si è distrutto un pezzo di città ecco a Seveso era presente anche Laura Conti Laura Conti era all'epoca consigliere regionale per il partito comunista e appunto Laura Conti una delle diciamo figure più rilevanti dell'ambientalismo scientifico e politico italiano e anche per Laura Conti Seveso fu una prova nel senso che fu un momento difficile anche per lei e da questa prova di Seveso la sua riflessione sull'ecologia uscì profondamente trasformata nel senso che Laura Conti non ebbe tanto un'interpretazione del caso di Seveso come il cedimento ma come la prova che le lotte per la salute nel momento in cui diventavano lotte per la salute ambientale avevano forse bisogno di mettere meglio a fuoco il senso di salute e il senso di ambiente nel passaggio dalla fabbrica al territorio cioè non c'era un automatismo che le metodologie che funzionavano con gruppi più omogenei cioè dentro le fabbriche sui posti di lavoro funzionassero nella disomogeneità del territorio e dunque per esempio in un'intervista del 78 lei spiegò quando è successa la faccenda di Seveso l'ecologia dal punto di vista scientifico già la studiavo ma a Seveso mi sono accorta che ai miei studi mancava un tassello molto importante l'uomo come elemento dell'ambiente ma non l'uomo come scelte produttive non soltanto questo l'uomo come scelte di vita l'uomo come valori intimi ho scoperto lì il valore della cultura dell'uomo il significato della cultura dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente allora vorrei un attimo soffermarmi appunto su queste due letture che ci furono della prova di Seveso da un lato il fatto che c'era stato un cedimento del movimento della salute diciamo delle lotte per la salute e dall'altro questa idea che forse bisognava un attimo mettere più a fuoco salute e ambiente nel passaggio dalla fabbrica o da luoghi chiamiamoli più di omogeneità cioè in cui le persone erano riunite da esperienze molto simili a situazioni di maggiore disomogeneità e praticamente diciamo queste due letture mettono a fuoco due maniere di leggere il legame salute malattia e ambiente cioè nel senso che da un lato abbiamo diciamo una comprensione della relazione tra salute e ambiente che è fondata sulla ricerca di una causa della malattia che è una causa esterna al corpo umano che dunque va ricercata nell'esterno che è l'ambiente e dunque abbiamo diciamo l'organismo umano l'organismo biologico dell'essere umano che è in uno spazio dove appunto ingerisce respira assimila entra in contatto con delle sostanze potenzialmente nocive per la salute e ovviamente se noi abbiamo questa lettura qui che si tratti della fabbrica o che si tratti del fuori della fabbrica in realtà non vediamo tanto la differenza perché comunque sempre di questa relazione si tratta cioè di un organismo con degli elementi che portano nocività però un altro modo di intendere la relazione tra salute e ambiente in quegli stessi anni dentro il movimento per la salute per esempio ovviamente la stava portando avanti Basaglia Franco Basaglia dunque con la sua riflessione sulla salute mentale e in quel caso lì la relazione con l'ambiente c'era perché già Basaglia aveva un approccio ecologico diciamo della salute c'era perché si incentrava sul nesso tra la persona e il luogo di vita come un nesso fondamentale costitutivo dell'identità della persona e dunque in quel caso come dire l'ambiente era visto come il luogo delle abitudini il luogo anche di un investimento affettivo culturale che fa parte del benessere e dunque in quel caso la relazione al luogo era più appunto era più una relazione al luogo quasi che non è al luogo di vita che non all'ambiente inteso come l'insieme degli elementi e diciamo che a seveso sicuramente questa la violenza diciamo della diossina che sradicò un'intera una parte di una collettività dal suo territorio territorio per cui rivendicava un attaccamento che visto dal di fuori era difficile da capire perché comunque non aveva impedito lo scempio della chimica però questo attaccamento che fu letto questa rivendicazione di legame con il territorio che fu letto unicamente come o prevalentemente come una forma di falsa coscienza in realtà mostrava anche una diversa maniera di intendere che cosa fosse salute o che cosa fosse necessario alla salute e diciamo che in questa direzione qua di dire che in quella difficoltà c'era anche forse un nodo rispetto a cos'è salute nella relazione al territorio questa lettura qua dicevo è la lettura che ritroviamo in Laura Conti che poi apre ulteriormente questa lettura della relazione salute ambiente addirittura a un livello ulteriore di apertura che è la relazione tra l'ambiente e l'ecosistema e dunque già Laura Conti apre e appunto ho sentito prima gli interventi che mi hanno preceduto già hanno accennato a questa prospettiva One Health lei non la chiamava One Health ma era già in questa visione di una salute che non possiamo più considerare senza considerare diciamo le interdipendenze con gli altri esseri viventi non umani appunto con i batteri con gli animali con le piante e dunque che non ci si poteva contentare di vedere quegli elementi lì come gli elementi portatori della minaccia ma che in realtà bisognava considerarli diciamo come parte di una diciamo di una rete di interdipendenze alcuni l'hanno chiamata la comunità biotica cioè il fatto che sia insieme nell'interdipendenza ecologica e questa interdipendenza lì è la chiave della salute e questa terza declinazione della relazione salute ambiente è sicuramente diventata diciamo ci è diventata molto chiara con l'esperienza della pandemia e dunque con il fatto che finalmente si è mostrato come diciamo l'aumento dell'antropizzazione degli ecosistemi comporta tutta una catena di conseguenze che vanno fino a colpire la salute umana eppure continuiamo o continua ad essere prevalente l'idea che preoccuparsi per la biosfera è fondamentalmente un lusso cioè sarebbe diciamo è interessante per noi ricercatori capire perché quando si dice che bisogna preoccuparsi per la biosfera questo sia spesso considerato una cosa come dire non ce lo possiamo più permettere esatto è veramente nel senso chiaro che abbiamo delle piste per riflettere a questo è da un po' che ci si interroga su come riusciamo a far passare che preoccuparsi per il destino dell'abitabilità della terra sia un lusso e da qui appunto appare sempre più chiara l'esigenza la necessità di costruire dei quadri di interpretazione di intellegibilità dei fenomeni che non separino mai la fine del mese e la fine del mondo questo è uno slogan che è nato in Francia per cercare appunto di evitare questa specie di contrapposizione o di competizione tra le lotte per la giustizia sociale e le lotte ambientali cioè c'è sempre questa cosa o questa separazione questa diciamo così tendenza per ragioni appunto che sono anche a cercare nella storia di questi movimenti a contrapporli ecco dobbiamo lavorare anche dal punto di vista dei quadri interpretativi a superare questa tentazione di opporre queste lotte ovviamente questo mette sul tavolo il fatto che l'ambientalismo non è uno di ambientalismi ce ne sono diversi cioè pone sul tavolo il quadro la questione dei quadri concettuali che utilizziamo e che mobilitiamo per parlare di ambiente e diciamo la direzione indicata dall'ambientalismo scientifico di Laura Conti e di altri con lei è stata diciamo è quella che secondo me è valida ancora oggi è quella che appunto cerchiamo anche di passare nella comunicazione con le nuove generazioni di come si dice di attivisti ambientali e cioè che la questione ambientale va letta come questione economica in senso sostanziale cioè nel senso che la questione ambientale è la questione dell'organizzazione della sussistenza della specie umana in un ambiente che è condiviso con altre specie e dunque la questione ambientale non principalmente come questione della natura la questione della natura poi si pone dentro il modo in cui risolviamo il problema della sussistenza ma che è innanzitutto questione della coesistenza tra la specie umana che è da intendersi come una specie diciamo in cui c'è il 100% di natura e il 100% di cultura e le altre specie terrestri perché appunto è dall'interazione tra la specie umana e le altre specie terrestri che dipendono le condizioni di il mantenimento delle condizioni di vivibilità di abitabilità del pianeta e di nuovo io penso che appunto ci siano delle piste interessanti diciamo dei fili interessanti da tirare sempre da questi precursori dell'ambientalismo scientifico e dunque voglio citare questa frase di nuovo da che cos'è l'ecologia di Laura Conti perché la trovo molto interessante lei scriveva chinarsi su un muratore caduto dall'impalcatura e parlargli dell'eutrofizzazione dell'adriatico sarebbe di cattivo gusto ma soprattutto sarebbe inutile ecco e questa considerazione è valida tutt'oggi nel senso che è chiaro che ma diciamo ma oggi più che ieri non possiamo dire dobbiamo prima risolvere la questione lavoro per poi poter risolvere la questione abitabilità della terra queste cose ancora di più che non ieri perché appunto abbiamo perso 40 anni devono marciare insieme devono andare insieme nel senso che appunto deve essere sempre più chiara la diciamo la non procrastinabilità di una lotta per la trasformazione del metabolismo energetico diciamo che diciamo di quelle società umane che hanno optato per quello che è stato definito dai sociologi tedeschi Ulrich Brand e Markus Wissen il modo di vita imperiale cioè dobbiamo far comprendere che appunto è stata fatta una scelta per un modo di vita imperiale cioè che diciamo crea innanzitutto delle periferie da cui si attingono esternalità positive in cui si riversano esternalità negative e che questa cosa accomuna veramente la fine del mese e la fine del mondo nel senso che accomuna lo sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento delle interdipendenze vitali in uno stesso movimento ed è fondamentale questa nozione della trasformazione metabolica appunto non si tratta di una transizione come è stato detto cioè non si tratta di lasciare non si tratta di ridurre i consumi che ovviamente in una società profondamente diseguale va a finire a penalizzare chi è già nel fondo diciamo della scala sociale ma è la questione della ristrutturazione del fabbisogno metabolico cioè che vuol dire fondamentalmente un ripensamento anche di che cosa voglia dire produrre del rapporto alla produzione oltre che appunto dei modi di produzione e dunque è chiaro che il nodo del lavoro ritorna centrale perché comunque c'è un nodo intorno anche a quale lavoro perché e di nuovo appunto è interessante rileggere Laura Conti in questo senso perché è chiaro che lei per esempio già diceva che la trasformazione ecologica avrebbe fondamentalmente non era in contrasto con il lavoro nel senso che poteva creare molto lavoro ma certo avrebbe creato un tipo di lavoro non propizio all'emergere della coscienza di classe cioè perché sarebbe stato un tipo di lavoro contrario a quel lavoro che comunque riuniva in uno stesso luogo di produzione sul quale era anche possibile una forma di socializzazione che aiutava l'emergere di una coscienza di classe per cui già in modo molto attento lei metteva sul piatto la questione che anche il ruolo lo statuto il tipo di lavoro era diciamo un elemento importante al centro di questa trasformazione ecologica che lei vedeva come qui la cito un cambiamento radicale del modo di produrre del modo di consumare del modo di vivere ovviamente un cambiamento che è estremamente difficile da instaurare e per cui c'era bisogno di un riorientamento della ricerca scientifica e tecnologica che privilegi le tecnologie morbide e le scienze del mondo vivente e ancora diceva una grande impresa intellettuale e culturale prima ancora che politica un'impresa che deve demolire valori insediatisi da mille anni è l'idea appunto della conversione ecologica è un'impresa intellettuale che rifiuta di risolvere i problemi di oggi scaricandoli sulle spalle delle generazioni future come fa chi rapina spietatamente la fertilità dei suoli e come fa chi accumula scorie radioattive e materiali inquinanti di ogni genere si tratta di un'impresa culturale intellettuale che deve aiutarci a radicarci nel futuro questa è un'altra immagine che io rubo da una sua lettere che trovo bellissima nel senso che diceva nella nostra società c'è qualcosa che ci sradica dal futuro ed è vero spesso si dice che è il passato il problema in realtà ci sradica dal futuro non ci mettiamo nei piedi di chi verrà dopo e diciamo penso che appunto questo contrastare quelle tendenze nella nostra società che ci sradicano dal futuro sia ancora oggi appunto un'impresa collettiva in cui diciamo impegnarsi e direi che mi fermo qua grazie Laura faccio solo un commento perché mi viene da dire che se si fosse quella trasformazione quella conversione il problema della separazione del lavoro in classe forse sarebbe superata nel senso che ecco sì sarebbe risolta diciamo così ci sarebbe una domanda la facciamo subito aspetta aspetta che ti passo un microfono che puoi venire a prendere lo accendi schiacci solo a lungo un attimo schiaccia a lungo schiaccia schiaccia a lungo ok grazie sì una considerazione al volo Laura Conti io vivevo a Milano in quel periodo in cui era anche in consiglio regionale ebbe vita difficile proprio dal partito comunista nel quale militava perché era troppo più avanti le posizioni che Laura appunto ha appena espresso e e lei quindi era in difficoltà sia con le componenti più operaiste che poco capivano ma anche poi con la componente di destra del partito comunista tipicamente milanese che andava già verso una direzione opposta a quella di cui stiamo parlando quindi Laura e Giorgio Nebbia che tu hai citato tutte e due cercarono di fare di educare il partito comunista senza riuscirci però poi alla fine granché tant'è vero che poi con lo scioglimento del PC alla fine un po' si è persa quella che è stata sono state le sue le sue idee che erano anni avanti rispetto a quelle purtroppo della sinistra di quell'epoca ma direi anche di quel che resta della sinistra oggi era solo una considerazione mi è piaciuta molto la tua esposizione e grazie un'osservazione semplicissima che non è mia ma è più timido e quindi parlo io per Antonio Muscolino ma ha colto un punto secondo me invece importantissimo che volevo porti come riflessione perché mi è sembrato proprio quando accade SEDESO non c'è ancora la riforma sanitaria e quindi la reazione dei cittadini probabilmente è da collocare anche dentro quel tempo storico dopo la riforma sanitaria si sviluppa la sensibilità del cittadino che lo Stato ha una profonda responsabilità rispetto alla salute di tutti quindi nascono i servizi ufficialmente come servizi istituzionali mentre allora quello che c'era pensiamo agli smale alle prime iniziative nella medicina del lavoro erano iniziative che erano nate come forma di auto-organizzazione delle parti più avanzate e dei movimenti sociali che c'erano in quel momento quindi probabilmente c'è questo elemento di lettura e tra le tante cose che ci siamo detti in questi giorni che non è che ci riempiono di entusiasmo un po' ci deprimono anche a fare il quadro però possiamo dire che probabilmente le reazioni delle popolazioni oggi a disastri simili sono il prodotto anche di una consapevolezza che comunque in qualche modo è cresciuta in questi decenni attorno al significato politico-culturale della riforma sanitaria la cui onda lunga almeno su questo terreno cioè di quello che è giusto che tu puoi chiedere esigere dallo Stato è rimasto in piedi ecco solo questa osservazione e allora se andiamo su questo controffensiva e aggiungo che proprio da lì pian piano comunione liberazione con tutti gli addentellati comincia non solo la conquista della sanità lombarda ma nel particolare la conquista pian piano della medicina del lavoro della clinica del lavoro di Milano che poi a un certo punto riesce a prendere in mano e quindi a prendere in mano una parte anche del lavoro che riguardava Seleso mi sembra che sia un cerchio che torna no? complimenti non ci sarà stato chiedo scusa non ci sarà stato anche e forse pre-converantemente un fatto generazionale cioè le persone che erano adulte sempre sono le 73 gli anziani erano nati diciamo nel 1890 nel 1905 nel 1905 i più giovani dei temi hanno un'ambientà anche all'inizio degli anni 50 la popolazione che per la cultura dell'ambiente storico in cui era vissuta era più importante ad andare per lasciare una foglia di quello sciagolato del concetto beh è stato un incidente e il prezzo da pagare è buonanotte vediamo conto che noi chiamiamo ancora incidente quelli economotidistici che vanno nel 4-7 mila nel 5-6 mila non so più le giornate morti all'anno in Italia le popolazioni venute dopo cresciute nell'andare cresciute nella pietra andropica artificiale in cui nato hanno una percezione diversa hanno avuto delle altre hanno delle altre diverse anche se non è un gioco scopo però l'humus è un paio di cose sulla relazione di centemeri 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 allora ieri nel mio intervento ho detto che i giganti sulle scuispalle camminiamo non sono soltanto Macca Caro Giovanni Berlinguerra e Basaglia ma anche Laura Conti sulla vicenda di Seveso vorrei dire una cosa innanzitutto che quella vicenda ha portato a una cosa che è una una normativa che non abbiamo citato che è la direttiva Seveso sui siti altamente inquinanti che è una cosa che forse abbiamo un po' perso di vista negli ultimi tempi all'epoca diciamo subito dopo Seveso tra l'altro io ero borsista all'istituto superiore sanità e conobbi il professor San Paolo un cattolico diciamo oggi lo definiremo un cattolico democratico un cattolico liberale ma insomma lui fu quello che veniva lì a fare i primi carotaggi del terreno e residò una una diciamo grave allergia cutanea da cui non si è mai ripreso ma in realtà io mi ricordo bene poi anche negli anni successivi che si tentava spesso di tranquillizzare la popolazione su Laura Conti un libro che insomma io credo è l'unico che ho letto in realtà ma insomma molto tempo fa che è questo pianeta in cui in polemica con un certo ambientalismo un po' naif di un ecologismo diciamo diceva che la prima aggressione all'ambiente è stato il passaggio all'agricoltura insomma per cui diciamo che con l'agricoltura inizia la trasformazione dell'ambiente e poi a questo punto però l'ultima osservazione sempre un po' riprendendo il mio intervento di ieri invece ho paura se noi leggiamo con gli occhi dell'oggi le cose scritte ieri da questi giganti noi avevamo un compito diverso di costruire un pensiero alternativo come loro fecero fortunatamente per noi però ormai tanti alcuni decenni fa se noi invece facciamo una una specie di riduzionismo culturale dicendo che One Health citato prima da Romizzi e anche da te ma tu l'hai fatto in maniera meno strutturata è la soluzione io ricordo che sempre il mio intervento di ieri oggi siamo di fronte a una potente egemonia del pensiero neoliberale nel mondo che è iniziato molto tempo fa c'è questo libro che ho consigliato ieri dominio di Marco Deramo in cui ci dice che mentre noi pensavamo di fare la rivoluzione nei grandi centri culturali diciamo nelle fondazioni americane iniziavano a decidere che bisognava scalzare il potere della sinistra nell'università nella società incontrovinciando quella controoffensiva di cui oggi si vedono gli effetti allora la parola One Health forse non è così pericolosa ma nasce da un convegno della Rockefeller Foundation di più di dieci anni fa poi ripreso più recentemente da un articolo scientifico sulla rivista Lancet e poi dall'OMS e in ultimo dall'incontro del G20 sulla salute che c'è stato l'anno scorso se non sbaglio a Roma allora bisogna un po' stare attenti perché il tentativo cioè l'errore di andare appresso alle mode e alle parole ne dico una per chi si interessa ai signi da pubblica come me di servizio internazionale lo dicevo ieri a Cavicchi vi ricordate ci siamo dimenticati di tutti la clinical governance non ne parla più nessuno grazie al cielo di clinical governance che è intraducibile governo clinico governo dei clinici allora noi dovremmo in realtà trovare un nuovo linguaggio io non so se questo saremo capaci noi che siamo tutti con i capelli un po' bianchi però eppure diradati o se invece sia compito delle nuove generazioni che dovrebbero forse anche contestarci io mi immagino questo quando vedo i giovani studenti che lavorano cioè i giovani lavorati che lavorano penso che forse vorrebbero iniziare a contestarci e dire a noi che abbiamo sbagliato ma di là di questo penso che noi non dobbiamo invece adagiarci usare le parole di moda del momento rendendole funzionali al nostro compito che invece dovrebbe essere diverso va bene concludiamo gli interventi programmati con quello di Marco Paganini della rete Alter Piana la Piana e quella di Firenze e il tema che hanno seguito in modo particolare è quello del ciclo dei rifiuti del trattamento della loro gestione e dell'alternativa della prevenzione dei rifiuti allora ho deciso che vi risparmio le diapositive nel senso che poi te le lascio perché tutto sommato i problemi di numeri ci sono ma quello che è importante secondo me è la sostanza un po' della cosa se ne è parlato molto in questi giorni in vario modo per cui alcune cose che dirò sono per cominciare quattro banalità primo che la gestione degli scarti costituisce uno dei fattori limitanti del sistema produttivo allo stessa stregua della disponibilità di materia e di energia quindi questo è un altro elemento l'altra banalità è che la biosfera non fa scarti la biosfera chiude i cicli i cicli il materiale che al termine di un ciclo diventa con l'aggiunta di energia generalmente del sole fonte di un altro ciclo cioè l'energia chimica accumulata generalmente biochimica viene trasformata e riportata poi all'origine nelle parti costituenti a sostenere in tutto questo ciclo varie forme vitali queste sono due cose banali l'altra cosa banale che voglio dire è che il modo di produzione capitalistico è essenzialmente lineare questa è la base di tutto il nostro cosiddetto sviluppo e l'altra cosa è che la crescita senza limiti è insieme il codice genetico e il limite del capitalismo queste sono le quattro banalità da cui si doveva partire semplicemente perché quello che volevo mettere in evidenza sul discorso rifiuti è che il passaggio dal sistema di produzione lineare cioè risorsa produzione merce rifiuto a un sistema ciclico cioè risorsa produzione merce materie secondi recupero e nuovo ciclo è un imperativo ormai universale lo dice l'ONU lo dice l'Europa lo dice chiunque però quello che non si dice è che questo cambiamento è un cambiamento di ordine di grandezza della complessità cioè si passa da un sistema complesso ma lineare a un sistema che è di un ordine di grandezza più complesso quando si aumenta l'ordine di grandezza il si deve capire che si impatta contro tutto tutti gli aspetti della comunità dall'approvvigionamento dalla dipendenza il modo di trasformazione la distribuzione la titolarità della proprietà e delle decisioni in sostanza la dinamica democratica cioè cambiare il paradigma la grandezza dell'ordine di grandezza significa impattare sulla dinamica democratica e appunto per ogni problema complesso come dice Shaw c'è sempre una soluzione semplice e sbagliata questo è l'assunto della cosa per cui partendo sul problema dei rifiuti noi diciamo che per esempio i rifiuti non fanno eccezione da questo punto di vista e le soluzioni semplici e sbagliate ne abbiamo viste tante in questi anni si è cominciato con quella di nascondere le sottoterra con le discariche magari recuperando del gas da poi utilizzare ma sostanzialmente era nasconderli sottoterra oppure volatilizzarli bruciandoli recuperando vuote risibili di energia in processi industriali lineari perché di questo si trattava di processi industriali lineari in cui la risorsa era il cumulo di rifiuti cioè il monte di sudicio il processo era la scomparsa che era anche la merce che si vendeva cioè quello che si vendeva era la scomparsa del monte di sudicio questo è il sistema che ha funzionato qui fino ad ora gli inevitabili impatti di questa roba ricadevano sulla salute e sull'ambiente delle popolazioni viciniori che venivano di solito che fra l'altro avevano due caratteristiche uno quello di essere marginali cioè tutte queste situazioni venivano scaricate su aree marginali quindi il fatto di avere di essere al termine di un processo lineare in cui si faceva sparire il sudicio ti rendeva un'area una popolazione un ambiente marginale in più gravato da essere portatore della sindrome nimbi cioè tu eri non solo marginale ma anche ottuso perché non volevi avere il questo questo lo dico perché c'era una situazione a Firenze legata al fatto della costruzione dell'inceneritore anzi al vecchio inceneritore quello di San Donnino in cui ingenuamente io dico tra virgolette perché secondo me non è un'ingenuità è un'affermazione di non subalternità il fatto di dire diceva bene volete l'inceneritore fate l'affiesole perché lo dovete fare a San Donnino e il problema diceva questi sono i nimbi no cioè nimbi in quel caso aveva un valore secondo me di classi cioè diceva chiaramente io non sono marginale rispetto a rispetto a affiesole perché devo essere marginale rispetto a affiesole quindi questo aspetto era uno degli elementi che secondo me ha cambiato ha fatto poi in qualche modo crescere anche la la coscienza diciamo delle varie dei vari comitati ambienti popolazioni abitanti in un senso più generale e siamo arrivati a sviluppare piano piano un approccio al problema della gestione dei beni comuni un po' diverso allora chiaramente contro questa questa impostazione di gestione dei beni comuni si muovono le lobby dei servizi lobby dei servizi che voglio dire forti delle accordi di Marrakesh passati in Italia in in Parlamento senza colpo ferire ma ensanciscono sostanzialmente che le istituzioni hanno la l'obbligo tra virgolette di privatizzare i beni comuni attraverso società di molti utiliti da offrire impasto alla borsa questo è la diciamo l'ordine di scuderia no? che passa in questo senso allora i comitati della Piana qui sto parlando Firenze Piano Pistoia però anche poi tutta la Toscana in realtà in varie situazioni che sono nati morti rinati su problemi specifici hanno cominciato a organizzarsi un pochettino fra di loro e a affrontare la percezione avere una percezione a maturare una percezione del territorio più vicina al concetto di difesa del paesaggio inteso in senso moderno come luogo dell'abitare per cui ci sono tutta una serie di movimenti che a questo punto riconoscono si riconoscono a vicenda come situazioni che difendono un'area territoriale a comune ciascuno da un punto di vista specialmente che può essere anche particolare in qualche caso ma che è riconosciuto come un elemento di comunità cioè di difesa del paesaggio paesaggio inteso in quel senso in quel senso quindi il si stabiliscono in pratica delle connessioni a questo punto non solo fra le lotte contro la nocività no quindi contro l'inceneritore contro la discarica contro l'inquinamento l'inquinamento delle acque entrano in gioco a questo punto anche per esempio i comitati contro nocività più generali tipo le grandi opere inutili quindi no tav quindi no aeroporto quindi tutte situazioni che fanno parte dello stesso contesto di predazione del territorio in più si aggiungono anche dei movimenti che agiscono in maniera come dire pratica una sorta di azione diretta di riappropriamento del territorio tipo per esempio la comunità e gruppo di orto collettivo che sono un'organizzazione che ha preso o di genuino clandestino cioè che sono una serie di agricoltori o persone in generale che hanno scelto di appropriarsi di pezzi di territorio chiaramente contrattandoli col comune con altre cose eccetera dove fanno dell'agricoltura di prossimità oppure l'esempio più conosciuto è quello di Mondeggi dell'occupazione della fattoria della provincia abbandonata che viene colonizzata di nuovo da dei gruppi di giovani che hanno deciso di iniziare un'attività agricola in quell'area quindi queste realtà così abbastanza diverse però si riconoscono intorno al fatto che leggono si leggono come difesa del territorio allora e quindi sulla questione dei rifiuti a questo punto questa diciamo convergenza determina la produzione noi siamo in una fase in cui c'è la scadenza poi ne parlerò un attimo veloce delle scadenze nazionali legate al piano nazionale della gestione dei rifiuti e al PNRR per cui c'è in ambito regionale la necessità di riformulare il piano rifiuti e bonifiche va bene quindi la regione lancia l'iter per il discorso della cosa i comitati producono un piano alternativo cioè un piano dal loro punto di vista di gestione rifiuti e bonifiche integrale integrato intero in cui articolato che portano alla regione dicendo questo è il punto di vista degli abitanti inteso in questo senso i problemi chiaramente vengono fuori da questo piano ovviamente incontra subito delle criticità che sono legate al discorso delle PNRR che e dei vari ordinamenti in particolare sono due i riferimenti oltre il piano nazionale di gestione dei rifiuti e bonifiche c'è la strategia per l'economia circolare che è un altro documento del Mite in cui si delimitano una serie di paletti per le regioni e addirittura si prospetta all'interno di queste cose dei passaggi obbligatori per i piani regionali che se non attuati faranno partire delle modalità di tutoraggio obbligatorio da parte del Ministero delle funzioni degli enti locali cioè sostituiranno gli enti locali nelle decisioni da prendere questo è un elemento che è presente sia nel decreto concorrenza che nella strategia per l'economia circolare e che in parte secondo me meriterebbe essere approfondito ma insomma ci passo un attimo a volo perché comunque è un elemento che determina una situazione di come dire di conflittualità le regioni sono un po' fra l'uscita e il muro su una serie di cose in particolare in particolare e soprattutto i comuni su questo piano si trovano in difficoltà perché vedremo poi anche per la parte che riguarda i comuni questa cosa è sostanziale allora queste indicazioni a livello nazionale hanno come centro la perequazione impiantistica cioè l'idea è che a livello nazionale quello che non funziona nella gestione dei rifiuti è che non ci sono abbastanza impianti per gestire questa roba cioè ancora la stessa logica di lineare di tipo industriale e i recuperi sono considerati attraverso l'individuazione di alcuni flussi strategici di materiali che chiaramente sono ovviamente i RAE cioè i rifiuti elettronici da cui si deve estrarre il materiale i tessili che dovrebbero andare entro l'anno prossimo a totale riciclo la carta e le plastiche e le plastiche e sulle plastiche di pregio c'è una serie di appetiti che si sono scatenati che è successo di fronte ai comitati che portano questo documento alla regione la regione risponde così fa un bando per la richiesta di manifestazione di interesse alle aziende toscane che vogliono entrare nel ciclo e ottengono una quarantina di proposte di queste aziende va bene le proposte di queste aziende questa quarantina di queste aziende sono principalmente legate alla produzione di all'utilizzo di materie prime e seconde dai rifiuti in particolare relative al termine dei processi di trattamento meccanico biologico e per fare cosa allora l'ENI propone un impianto di pirogassificazione per produrre metanolo per combustibile combustibile un altro impianto viene proposto a Rosignano probabilmente dalla Solvay dietro il discorso per la produzione di etanolo ai fini della riproduzione della ricostituzione di plastiche a partire dall'etanolo più idrogeno che viene utilizzato eventualmente per aumentare il potere calorico del gas che viene utilizzato dalle vetrerie che in questo caso fanno anche la raccolta del vetro ma il riciclaggio del vetro e quindi richiedono questa energia aggiuntiva e un terzo impianto ancora di produzione di metanolo sempre con questo tipo di finalità cioè l'uso come combustibile questi tre impianti progettati richiesti alla regione complessivamente dovrebbero processare grossomodo 700.000 tonnellate l'anno di materiale che sono un terzo della produzione di rifiuti della regione toscana e non hanno nessuna giustificazione dal punto di vista della programmazione in termini di incidenza perché in realtà capito se te tu metti c'hai una raccolta differenziata ormai quasi al 70% le 700.000 tonnellate per fare questa roba non ce l'hai allora il convitato di pietra di questa roba chiaramente sono i rifiuti speciali i rifiuti speciali che quindi che rappresentano tutto quello che viene fuori dalla dall'attività industriale e che rappresentano grosso modo dalle 4 alle 5 volte i rifiuti urbani quindi questo è il concetto su questa su questa cosa dei rifiuti speciali oltretutto c'è una modifica di legge a questo punto che qualifica come rifiuti speciali anche tutti i rifiuti che derivano dalla lavorazione primaria dei rifiuti soliti urbani quindi sostanzialmente quello che si pensa di fare con questa roba è fare un trattamento un riciclo ma riciclo che non è un riciclo perché voglio dire tu prendi la stessa roba le plastiche eccetera le riallopri per rifare combustibile quindi semplicemente tu fai un passaggio non più rispetto al cracking del petrolio ma il risultato finale è esattamente lo stesso per alimentare un circuito che deve sostenere il concetto di far sparire i rifiuti speciali questo è il meccanismo insieme a questo un'altra manifestazione di interesse che arriva subito in regione è il sostanziale raddoppio della discarica di peccoli che anche lì si passa loro che lo cabellano come un modesto ampliamento in realtà si passa da 2 milioni e 500 mila metri cubi a 5 milioni e mezzo di metri cubi quindi un raddoppio sostanziale con una capacità di ricezione grosso modo di 300 mila tonnellate all'anno di materiale quindi roba non si sta parlando di spiccioli si sta parlando di roba molto grossa oltretutto i rifiuti speciali dal punto di vista legislativo non hanno il vincolo dei rifiuti urbani cioè dell'autosufficienza i rifiuti speciali possono venire da qualunque parte di mondo perché loro sono un processo industriale di questo tipo quindi vedete il meccanismo da una parte ci sono gli abitanti che dicono l'obiettivo è aumentare la raccorta differenziata fino all'80% cosa fattibilissima in Toscana perché in 2 atto su 3 siamo già al 65 quindi in sostanzialmente in 5 anni va bene quindi l'ipotesi è noi si fa si estende porta a porta a tutta la regione e in 3-5 anni si arriva all'80% 85% di raccolta differenziata come succede già in vari distretti d'Italia compreso alla Sardegna oltre che il Veneto non solo e si ottiene un riciclo siccome in Toscana ci sono diverse aziende che usano le materiali prime e seconde già strutturate si ottenne un riciclo che si avvicina già all'obiettivo previsto per il 2035 dall'Europa del 70% di materiale riutilizzato in cose quindi questo era già un obiettivo concreto il passaggio del porta a porta aveva anche come effetto secondario già dimostrato negli altri posti dove si è fatto insieme alla tariffa puntuale chiaramente di ridurre del 3% 3-5% il rifiuso complessivo questo portava già al 2025 il raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'Europa per del conferimento a discarica inferiore al 10% del rifiuso del rifiuso urbano complessivo quindi questa era già una risposta che si era già data a noi si era già strutturata ed era perfettamente perseguibile alla regione questa cosa non interessa perché quello che interessa invece è creare delle linee industriali perché questi distretti così chiamati circolari che circolari non sono determinano la simbiosi di alcune aziende che lavorano in sinergia fra di loro per recuperare questa roba e trasformarla in quello che si è detto con un investimento grosso modo di un miliardo e due di euro un investimento impiantistico che Alia che sarebbe poi l'azienda di gestione ha praticamente già infilato in bilancio aumentando la tariffa dell'8% quindi loro se lo sono già pagato prima di cominciare a farlo quindi questa è l'ipotesi che stanno strutturando in Toscana insieme a questo c'è la creazione della multiutilisi il Alia si presenta come capofila per fare una diciamo fusione di tutti tutti i gestori toscani dell'acqua pubblica che sono tre dei rifiuti che sono un paio e dell'energia cioè la distribuzione del gas e dell'energia elettrica in un'unica azienda che tramite la cessione delle quote di partecipazione dei vari comuni verrà poi quotata in borsa per un rifinanziamento del 49% il che vuol dire che formalmente rimarrebbe il 51% come proprietà pubblica va bene ma che di fatto per la legge per le disposizioni sulla gestione delle S.P.A. il pubblico non avrebbe più nessun titolo a gestire perché sarebbero gestite dalla chiaramente dal management della della S.P.A. che risponde solo agli azionisti in termini di dividendi punto quindi questo è l'elemento che cosa e contro questa cosa qui il ripeto l'insieme di comitati che sono a questo punto oltre 20 si sono riconosciuti per iniziare questa battaglia bene adesso partiamo con degli interventi liberi io ho tre interventi se ci sono solo questi riusciamo a stare grossomodo nei tempi ognuno dieci minuti se comunque qualcun altro vuole intervenire fatelo sapere entro la fine di questo intervento il primo è di sai perché perché è troppo grosso non riesce a il primo di francesco forte del comitato fonderie eh Lorenzo scusa è un lapsus a proposito nei giganti di cui si accennava prima aggiungerei un altro Barry Komoler che proprio è stato l'idiatore in pratica dell'economia circolare proprio a partire dalla valutazione sul ciclo dei rifiuti vai si poi come si passano avanti le slide si basta schiacci così ok va bene io proverò in pochi minuti a raccontarvi un po' un'esperienza di lotta sui territori vengo da Salerno a Salerno abbiamo una una fonderia una fonderia pisano che è una piccola ilva e che ha creato gli stessi danni anche se può essere paragonabile come territorio come grandezza ad un reparto dell'ilva però in termini eh proporzionati eh ha creato gli stessi danni di di la stessa scia di morte e di eh malattie nel 2013 nasce rinasce in realtà il comitato salute e vita eh insieme a me perché in realtà era nato nel 2003 poi ci eravamo persi perché quello che raccontava prima la dottoressa Laura eh proprio su Seveso sulla mancanza di capacità della popolazione di ribellarsi nonostante in ogni famiglia nella valle dell'Irno ci sia un morto un ammalato però non c'è la capacità di se non organizzati se non c'è qualcuno che gli fa capire che quei morti non sono dovuti al al caso o al al padre eterno ma sono organizzati dall'inquinamento che l'uomo e che in questo caso un imprenditore eh pisano insieme alle complicità di una certa politica hanno creato quelle condizioni non sono in natura ma vengono imposti comunque ehm questa qui diciamo rinasce il comitato nel 2013 e eh iniziano le prime battaglie poi dopo di che ehm facciamo rimettiamo in campo tutta una serie di di storie perché in realtà come dicevo era nato nel 2003 ma molti di quelli che nel 2003 avevano iniziato con me la battaglia che io ero consigliere comunale e fece un esposto alla procura da quell'esposto poi sono nate le prime inchieste ci sono state diverse inchieste eh tuttavia molti di quelli come Franco Calce sono morti si sono ammalati quindi il comitato eh che era fatto di poche persone si perse nel 2013 ci siamo rimessi in eh a combattere abbiamo incontrato nel 2014 delle persone eh chiave che che ci hanno dato la forza di andare avanti per esempio abbiamo incontrato nel 2014 a Napoli medicina democratica con Paolo Fieszo che ci ha dato una forza e una e la capacità di leggere quello che che accadeva per esempio eh accadeva che nel 2014 c'è un commissario regionale dell'ARPAC che per la prima volta si interessa alla questione riusciamo a far capire la gravità della questione questo commissario eh commissario Pasaduro ci incontra in regione incontriamo il presidente della regione dell'epoca che era Caldoro di centrodestra eh però che ci ascoltano e soprattutto l'ARPAC che inizia a fare quello che non aveva mai fatto dei controlli e con l'aiuto di medicina democratica riusciamo a capire quello che esce fuori esce fuori ad esempio che nel fiume Isno il fiume eh un fiume che è di interesse comunitario zona SIC zona protetta solo prima della fonderia i valori nei sedimenti dei metalli erano normali a valle della fonderia solo a valle troviamo i valori eh molto alti per esempio doveva essere il mercurio il cadimo e così via valore eh cento li trovavamo mille due mille tre quindi elevatissimi mentre alla foce a Salerno città si andavano a normalizzare scendevano quindi già qui nel fiume nelle acque c'è la firma della fonderia Pisano ma ciò non basta a mettere fine a questo disastro ambientale dopodiché cosa succede noi continuiamo la battaglia nel frattempo la gente inizia a capire esce anche pochi anni fa un un murale un murale su un palazzo di fronte al in questa stabile di fronte alla fonderia perché questa fonderia è nel cuore della città è in un quartiere operaio nasce questo murale dove si scrive dove c'è il volto di una persona che è morta realmente che si è ammalata che abitava in quel palazzo e qualcuno un ragazzo che fa questi murali scrive qui si muore finalmente c'è la coscienza da parte dei si inizia a capire che è vero quello che dicevamo che i morti che c'erano li iniziavamo a contare li iniziavamo a mettere nelle denunce perché nel frattempo avevamo fatto anche delle denunce alla procura avevamo messo 250 nominativi tra morti e ammalati intorno alla fonderia di patologie che si ripetevano anche patologie rare a questo punto si aprono delle inchieste si aprono l'inchiesta sull'annesso causale tra morti ammalati e il nesso causale eventuale della fonderia nel frattempo noi ci rivolgiamo anche alla corte europea dei diritti dell'uomo facciamo 153 famiglie facciamo un ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo che il 97% dei ricorsi vengono bocciati nel primo step non abbiamo superato il primo il secondo e stiamo adesso in attesa di sentenza e probabilmente da quello che abbiamo capito i nostri avvocati che sono avvocati di Roma che avevano fatto lo stesso ricorso e l'hanno vinto a Taranto per l'ILVA quindi per questo anche il parallelismo molte cose sono simili a quello che è successo all'ILVA di Taranto siamo in attesa in quest'anno speriamo in una sentenza di condanna e probabilmente saranno tre giudici a dare la sentenza e non nove quindi quasi sicuramente dovrebbe essere una sentenza che accoglierà i diritti dell'uomo violati il diritto alla vita e il diritto alla salute che sono stati violati dallo Stato italiano che non ha tutelato i cittadini perché diciamo questo e ci siamo rivolti alla corte europea dei diritti dell'uomo perché la politica rappresentata dalla regione dal comune in particolare dal presidente Vincenzo De Luca che è stato anche sindaco di Salerno per un ventennio e di fatto lo è tuttora questo signore si schiera formalmente con noi ci incontra anche lui in regione dice che bisogna mettere un punto una parola fine addirittura nel maggio del 2020 esce in televisione il 15 maggio e dice sto aspettando uno studio perché nel frattempo riusciamo con la nostra volontà come cittadini con la nostra lotta insieme ripeto perché è importante il ruolo di medicina democratica di medici che come Paolo come altri Esposito Lauria e lo stesso presidente di medicina democratica che ci ha dato una mano anche a leggere tutta una serie di situazioni tecniche riusciamo a imporre che lo studio uno studio che veniva fatto in regione campania lo studio spesso sulla popolazione suscettibile che riguardava i cittadini quindi il sangue dei cittadini le acque i suoli quindi le tre aria suolo e acque e anche diciamo gli esseri umani quindi il sangue dei cittadini si impone dei classer Valle dell'Irno anche da 0 a 3 km alla Fonderia Pisano e cosa viene fuori da questo? Viene fuori che lo studio spesso diciamo fa questi selezioni a 400 cittadini che sono rappresentativi di 30.000 residenti 30.000 residenti nel sangue dei quali si trova il mercurio e il cadmio oltre alle diossine 5 diciamo succede una cosa che loro non si aspettavano per questo accettano di introdurre anche la Valle dell'Irno e noi cittadini in questo studio pensavano che veniva uscivano dei valori normali invece cosa viene fuori? che nel nostro sangue della Valle dell'Irno da 0 a 3 km partendo dal camino principale della Fonderia Pisano nel sangue dei cittadini c'è caddino mercurio e diossine 5 volte più alto di tutta la popolazione della regione Campania quindi troviamo valori assurdi elevatissimi e il mercurio che è il re dei metalli i dottori diciamo ormai io non sono un medico ma grazie ai dottori ci hanno insegnato queste cose il mercurio lo si trova addirittura più alto 5 volte della terra dei fuochi quindi Salerno questo territorio è una terra dei fuochi causata da questa fabbrica e se oggi ancora continuiamo a lottare abbiamo un'inchiesta aperta e arrivo alle conclusioni un'inchiesta aperta dove grazie alla tenacia di medicina democratica dell'avvocato nostro che ci segue Torluccio dell'avvocato l'annuncita amministrativa e grazie ai medici di medicina democratica siamo riusciti a impedire che questa inchiesta venisse archiviata perché in tutta questa storia ci sono i complici ci sono i magistrati come il PM che voleva archiviare che poi è stato arrestato per altre vicende perché faceva favori ai imprenditori e noi abbiamo fatto l'opposizione abbiamo vinto l'opposizione all'archiviazione quindi l'inchiesta è aperta grazie a questa vittoria siamo arrivati ad avere delle relazioni di CTU come il professore Bigeri e Forestieri che sono due fiorentini toscani che hanno fatto la stessa cosa a Taranto e hanno trovato il nesso causale a Taranto e anche qui da noi trovano il nesso causale eccolo qua come si vede nella slide fonderie patologie e il nesso causale le fonderie i tumori gli esperti trovano il nesso tra malattie e fonderia pisana nonostante abbiano trovato il tempo è poco quindi arrivo alle conclusioni abbiamo trovato il nesso nonostante a dicembre ci sarà il quasi sicuro l'invio a giudizio per disastro ambientale e per omicidio plurimo la politica rappresentata dalla regione campania protegge questa fabbrica continua a dare ha dato una nuova autorizzazione integrata ambientale nel 2020 un mese prima che il presidente della regione formalmente diceva che la fabbrica non doveva riaprire in realtà un mese prima aveva dato l'autorizzazione integrata ambientale senza fare la valutazione di impatto ambientale e quindi la follia è questa che mentre i morti e gli ammalati li continuiamo a contare mentre noi continuiamo la lotta mentre aspettiamo che la corte europea dei diritti di un uomo si esprima mentre aspettiamo che la fabbrica venga delocalizzata perché doveva andare via da piano regolatore nel 2006 noi continuiamo ad avere morti e ammalati con la complicità di chi come l'ASL la regione continua a permettere questo disastro ambientale dico l'ultima cosa nel 2018 l'ARPAC trova i fumi pieni di metalli quelli che stanno nel sangue delle persone che fuoriescono ovunque tranne che dai camini quindi direttamente in atmosfera tanto è vero che l'ARPAC scrive che vi è un pericolo esiziale ovvero mortale per i lavoratori e la popolazione vicinora nonostante tutto ciò quella fabbrica anche stamattina mentre io sto qua i cittadini vivono 30.000 residenti nella valle dell'Irno si sente una puzza che noi chiamiamo la puzza della morte che continua a creare vittime con la complicità degli enti che dovrebbero fermare tutto ciò grazie prossimo intervento di Tino Balduzzi che fa parte dell'associazione di tutela per le falde acquifere nella zona di Alessandria noi abbiamo bisogno di di aria e di acqua per sopravvivere di aria non avvelenata e di acqua non avvelenata negli ultimi tempi ho dovuto occuparmi di acqua in un modo un po' diverso da quanto me ne sono occupato in passato insieme a Maria Angela Rosolet per l'acqua pubblica e ho dovuto occuparmi di falde acquifere e me ne sono occupato da statistico qual è la mia formazione guardando per capire qual è la realtà e capendo che la realtà non è facile da conoscere diciamo che negli ultimi decenni c'è stato un cambio radicale nella situazione delle falde acquifere falde acquifere che per millenni secoli sono rimaste identiche negli ultimi decenni negli ultimi decenni sono molti di questi sono state avvelenate e ci sono arrivato alle falde occupandomi d'ambiente occupandomi d'ambiente dove vivo l'intorno di Alessandria innanzitutto il terzo valico la TAF la parte terzo valico la nostra parte per quanto riguarda il movimento terra movimento terra che finisce che finisce in cave in decine e decine di cave non di scariche che hanno un fondo impermeabile più o meno impermeabile ma cave senza fondo impermeabile quindi a contatto con la falda acquifera semplicemente il nucleare lì ci sono molte cave il nucleare è a 7 km da dove vivo io Bosco Marengo c'è un deposito di scuole nucleari e rischia di diventare il deposito nazionale perché aperta parentesi hanno fatto un elenco con il TNAPI ha fatto un elenco per classi dove quel Bosco Marengo Sud è all'interno della classe più favorita in quel senso ma se avessero fatto una classifica punto per punto era in testa e in realtà è in testa e poi a 3 km ho Spinetta Marengo con un inquinamento che dura ormai da un secolo che dopo Montecatini Montedison Ausimont adesso è Solvay e dove sono anche i Florurati è l'argomento interessantissimo del film veramente molto interessante che ci sarà questa sera che abbiamo visto ieri sera ad Alessandria e fondamentale è stato conoscere una pubblicazione a cui sono arrivato via Notaf per la verità anche grazie a un amico qua presente che riguarda le falde acquifere profonde del Piemonte e in Piemonte è stato fatto uno studio sulle falde acquifere profonde l'acqua del futuro sostanzialmente mi risulta che in molte ragioni questo studio non è stato fatto questa pubblicazione è reperibile sul sito della regione e spiega tante cose soprattutto un tonto un tonto soprattutto drammi cose drammatiche la prima cosa drammatica è che le falde acquifere si muovono in modo estremamente lento una velocità tipica di una falda acquifera è un metro al giorno cioè per fare un chilometro tre anni un metro al giorno vuol dire un millimetro per un minuto se qualcuno è bravo a vedere un movimento stando un minuto a guardare una cosa un movimento di un millimetro è veramente bravo perché in realtà praticamente appare fermo che il fatto che le falde acquifere siano praticamente ferme significa che molti inquinanti possono andare in direzione viene detto aperta parentesi viene detto che c'è un movimento delle falde acquifere in una certa direzione che dipende dal fondo della falda acquifera da dove arriva l'area di ricarica da tante cose i geologi dicono che c'è questo in realtà però è un movimento estremamente labile che dipende anche dalle stagioni e se uno prova a mettere un po' di detersivo in una bacinella scopre che questo detersivo si allarga di colpo immediatamente e quindi intuisce che ci sono delle sostanze che possono risalire la corrente tranquillamente quindi non si può dire che intanto l'acqua va di là porta l'inquinamento giù di là no può andare su con l'inquinamento tranquillamente poi bisogna dire qual è il peso specifico di quell'inquinamento se va giù o se sale diciamo che è difficilissimo capire ciò che avviene nelle falde acquifere e questo è un dramma perché noi a questo punto non sappiamo quale acqua avremo in futuro non tanto noi quelli che i giovani questo è il vero problema loro non sanno non possono sapere che acqua avranno sarà meglio che cominciano a occuparsene insieme ad altri problemi come clima questa lentezza provoca una cosa ovviamente che se c'è un inquinamento è impossibile intervenire in tempi brevi perché prima che mi accorga di un inquinamento che ci mette tre anni per fare un chilometro ebbè quando me ne accorgo ormai quell'inquinamento è arrivato diventa come fai a frenarlo perché è diventato grosso e quindi la situazione è veramente drammatica non ti accorgi dell'inquinamento e quando te ne accorgi è troppo tardi non riesce più a bonificare ammesso che poi si possa bonificare in certi casi non si può bonificare e poi bisogna anche vedere perché le falde sono le falde sono terreno permeabile intriso d'acqua sostanzialmente sabbia ghiaia eccetera e però ci sono anche degli strati argillosi impermeabili e sotto uno strato magari c'è un'altra falda sotto e normalmente c'è un'altra falda sotto noi nello studio che ho trovato nello studio voluto fatto da CNR Università di Torino e Regione Piemonte sono state definite per l'Alessandrino sette falde una sopra l'altra con acqua che arriva fino a 1500 metri sotto il livello del mare da altre parti acqua non ce n'è invece già a 100 metri c'è l'acqua salata che non la puoi più utilizzare nel Vercellese invece gli strati intergellosi non sono continui ma sono interrotti quindi un certo inquinamento può finire ad una profondità enorme e quindi deve inquinare tutta la falda in un comune hanno trovato Cromes Valente a 150 metri sotto da quelle parti beh questa è la situazione è anche impossibile condannare cui inquina innanzitutto andare a capire chi ha inquinato e poi i tempi di prescrizione sono tali per cui te ne accorge vent'anni dopo o comunque quando ormai è troppo tardi beh diciamo che ci sono arrivato partendo dal terzo valico dalla TAV abbiamo dimostrato in mille modi che le TAV non servono cioè i tunnel parliamo di tunnel delle TAV non servono a niente in realtà servono ad altro servono sostanzialmente ad avere un enorme movimento terra perché il movimento della terra del terzo valico è il più grosso movimento della terra fatto in Italia e serve a chi ha rifiuti da smaltire è un'occasione enorme per smaltire rifiuti ad esempio un'altra delle ragioni per cui mi sono mosso è il problema dei PFAS di spinetta marengo e capire cosa succede veramente nella falda e anche capire che cosa succede nel rapporto tra fiume e falda perché il fiume in questo caso la Bormida passa sopra una falda acquifera quindi c'è acqua veloce che passa su acqua molto lenta allora chi inquina chi? è la falda che inquina il fiume o il fiume che inquina la falda? ci sono questi problemi e facendo ragionamento su tutta la Pionera Padana il ragionamento diventa ancora più serio però c'è un enorme problema è il problema dei pozzi passanti perché negli anni 50 quando si è diffuso il mais che richiede molta acqua ma molta acqua veramente hanno cominciato a fare dei pozzi profondi pozzi che andavano a pescare in seconda falda quella che sarebbe la falda buona e c'è un problema quando si fa un buco per fare il pozzo si fa un buco poi si mette un tubo che è più piccolo e all'esterno si mette della ghiaia in quella ghiaia cioè all'esterno del tubo passa l'acqua e di conseguenza vado a mettere in comunicazione la falda profonda con la falda superficiale quando inquino la falda superficiale inquino l'acqua del rubinetto che è una falda profonda peschi l'acqua degli acquedotti quindi in provincia noi abbiamo fatto due conti con gente che di mestiere fa pozzi capiamoci non ci siamo inventati niente da 3 a 4 mila pozzi non dichiarati in pianura padana da 50 a 100 mila pozzi passanti che vanno inquinare le falde buone in tutta la pianura padana è un problema enorme e andare a bonificare risolvere quel problema isolare le due falde costa come fare un pozzo nuovo ma va fatto perché anche se non usi quel pozzo quell'inquinamento continua e quindi è un problema enorme da risolvere cosa serve? beh servono tante cose innanzitutto servono controlli sulla qualità non ci si può purtroppo noi abbiamo constatato fidare di Arp e di Asl Asl controlla quello che gli dicono di controllare e non gli dicono di controllare certe cose questo è il punto fondamentale e Arpa è di nomina politica e quindi anche lì è la stessa cosa e poi soprattutto viene tenuta a stecchetto quando non hai fondi per fare quello che andrebbe fatto e manco mi posso fidare dei laboratori perché molti di questi laboratori lavorano per quelli che inquinano e quindi se dicono certe cose hanno smesso di lavorare serve allora cosa serve? serve disporre di laboratori regolari a controllo popolare questa cosa interessa una quantità enorme di persone benissimo allora bisogna affrontare quel problema e risolverlo servono laboratori faccio un esempio a Spinetta Marengo recentemente a fronte di Asl e Arpa che non sollevavano realmente problemi visto che la Solvay è belga è intervenuto all'università di Liegi e ha fatto dei controlli non solo sui dipendenti ma anche su popolazioni locali scoprendo che la quantità di Pifas nel sangue è assolutamente superiore a quella naturale messo di vista qualcosa di naturale nei Pifas non c'è mai nulla a parte questo bene adesso la Solvay sta contestando quelle ricerche però sostanzialmente il problema è lì altro problema occorre conoscere come sono messe le falde perché la falda acquifera ha un fondo impermeabile e come è fatto quel fondo impermeabile sale scende è geologia c'è dentro di tutto e la falda che c'è sotto ha un fondo e un soffitto come sono fatti perché dipende l'andamento della falda e quindi dell'inquinamento dipende come sono fatte quelle allora devo conoscere per conoscere devo fare un mucchio di pozzi un mucchio di piezometri di pozzi di controllo che non ho e quindi bisogna fare un enorme investimento per andare a difendere l'acqua del futuro questo è il punto per finire rendersi conto sostanzialmente che è negli ultimi 50 anni che tutto è peggiorato e che la cosa sta peggiorando rapidamente questo deve diventare un problema alla portata di chiunque chiunque deve sapere questa cosa qui c'è anche un fatto la gente non si occupa mai delle falde e quindi dell'acqua che beve perché questo è il problema perché è sotto terra e abbiamo interpellato anche uno psicologo un professore un ordinario di psicologia la terra è il luogo dei morti e la gente preferisce dove sono seppelliti i morti la gente non vuole occuparsi di quello che nella nostra tradizione di quello che c'è sotto terra e quindi praticamente non occupandosi di quello non si occupa dell'acqua di coloro che verranno dopo di noi penso che sia sufficiente e che il tempo bisogna un po' di tempo in più grazie a voi l'ultimo intervento di Angelo Pedrini della CUB di Milano mi guarda male scusami adesso lo dice lui di quale sindacato perdono dopodiché ci sarà un filmato di 7 minuti 7 di una testimonianza registrata da Taranto hai bisogno di la chiamata la correzione è semplice oggi sono del Ciel Cobas passato dalla CUB tentato con USB non ha funzionato non so se la prossima volta la sigla sarà ancora questa perché il nostro simbolo è un puzzle e quindi l'idea ce l'avevamo già quando abbiamo deciso il simbolo che insomma sarebbe bene metterci insieme ma non è così semplice ma passo no allora la prima cosa che così non me la scordo una delle questioni che veniva posta questa mattina del rapporto con la magistratura insomma e il fatto che sulle sentenze si pigliano troppe bastonate o comunque è complicato io racconto faccio parte perché me l'ha chiesto uno dei nostri avvocati di entrare in comma 2 che è un'associazione di gius lavoristi quindi di avvocati che si occupano della sezione lavoro che più o meno nasce il job dopo la fornero gruppazzo di avvocati si mettono insieme e nasce dopo un paio d'anni nel 2017 questa associazione che mettendo insieme più di 200 avvocati in Italia si scambiano le informazioni e tentano di passatemi il termine zappettare e un po' di robe di incostituzionalità sull'articolo 18 sono il frutto di questo lavoro del nuovo articolo 18 cioè delle riaperture è un lavoro collettivo che ovviamente viene svolto a seconda dei casi che capitano sotto mano a avvocati che non sempre sono dei sindacati di base anzi in genere lavorano per CGL che magari non gli danno il lavoro da fare però trovano e fanno quindi il suggerimento per quel che vale poi io non seguo bene tutta questa partita penale che sicuramente è più complicata e complessa però forse diciamo più che si diceva mettiamo insieme le associazioni di sostegno e serve la materia prima cioè serve che gli avvocati si scambino e lavorino collettivamente poi è chiaro che senza le lotte senza le associazioni il loro lavoro lì come quello dei giuslavoristi vale quello che vale perché poi il Parlamento il Governo a fronte di cose però insomma credo che questo aspetto vada un attimo come dire studiato ed eventualmente insomma chi può metterci la testa perché questa esperienza insomma l'ho vista insomma crescere e oggettivamente insomma dei risultati si possono ottenere anche se le leggi sono quelle che sono però sulla sicurezza invece sono per certi versi meglio di quelle della parte del lavoro insomma prima chi è tenuto prima di me parlava di questa cosa di Alessandro e oggi lì c'è una manifestazione come ce n'è una verso Ancona Senigallia dove c'è stata l'alluvione ovviamente anche queste cose nascono e crescono quanto durano come si sviluppano sono reazioni che ci sono certamente poi però invece passare alla soluzione alcune cose diceva prima Carpentiero ma insomma che ci avremo lo stragismo per un sacco di tempo questa questione qui dei buchi che diceva chi mi ha preceduto cosa vuol dire che noi proponiamo a quelli di GKN che invece di fare i semiassi mettono giù un laboratorio che ovviamente non sono loro però e si producono dei materiali che servono per fare questa attività ma lo stesso vale per sostituire le robe di amianto dove circola l'acqua perché restando sull'acqua c'è anche questo problema che in un tot di regioni questa circolazione e quindi vabbè insomma diciamo che questi aspetti sono aspetti complicati io faccio un raccordo con rete nazionale lavoro sicuro allora medicina democratica c'è e va questa rete nazionale lavoro sicuro idealmente lo dico così ci provo anche lì ci proviamo anche lì diversi mettere insieme diciamo varie realtà sul piano nazionale per sviluppare chi dice sportelli chi scrive solo propaganda e poi fa poco o niente rimane il problema che sulla questione di sicurezza diciamo questo rilancio è appena nato tra prima dell'estate una riunione poco tempo fa però sicuramente siamo come dire lontani dal produrre qualche risultato concreto sia verso i lavoratori che verso i rappresentanti lavoratori per la sicurezza o le rappresentanze sindacali le trattative sindacali io provo a dirla così noi ci troviamo come sia il Cobas in rapporto con altre realtà si Cobas o Cuba fare delle cose che riguardano la parte sindacale però sulla sicurezza è chiaro che diciamo è tutto da fare perché o c'hai l'RLS e magari ce n'hai uno su quattro gli altri non fanno niente quindi comunque diventa un problema sviluppare se devono investire siccome servono soldi io dico da anni 70 senza l'avvertenza sindacale che rivendica gli investimenti sulla salute quello della sicurezza può fargli scrivere che faranno le cose entro tre mesi o chiedegli entro quando verrà fatta quella cosa però poi se l'azienda non la fa chi è che la punisce diciamo che diventa complicato quindi anche facendo bene quel pezzettino lì rimane il problema che senza una lotta per un investimento sulla salute per la modifica degli impianti per la manutenzione non si ottiene quindi da qualche altra parte adesso ho chiesto a Caldirolli e ad altri di mettersi a cercare le esperienze sull'articolo 9 perché in alcune realtà non avendo l'RLS come sindacato come gruppo di lavoratori come attivisti vorrei vogliamo provare con l'articolo 9 a mettere in moto un'aggiunta diciamo di attività senza sostituire con gli altri che comunque sono istituzionali però fare questa attività e diciamo che dal punto di vista pratico insomma adesso noi abbiamo un lavoratore dell'ATS che è stato in pensione che è disponibile a dare una mano non solo a noi ma a tutti quelli che ne hanno bisogno quindi anche disponibile a dare e è medico di fatto ma insomma avendo lavorato all'Asla ha esperienza su questo l'ho trascinato a Modena abbiamo visto tre aziende in uno di questi è arrivato un RLS che diceva ma io non mi danno le scarpe giuste vedi che scarpe c'ho il padrone mi ha detto prendi 20 euro vai a comprartele lui ha preso i 20 euro però e l'altro sindacalista che c'era con me è inutile che vi dico la sigla tanto non serve potrebbe essere uno chiunque noi di solito chiediamo 50 non ci stiamo cioè proprio da dove cominciamo io lo so dopo di che faccio altri due casi poi la chiudo velocemente mi risparmio quello della Piaggio perché l'ha citato la compagna però anche lì per dare l'idea della disgrazia e dell'arretramento perché poi si possono citare i confederali però alla Piaggio c'erano otto delegati FIOM la volta precedente ne hanno cacciati quattro sospesi sono venuti al Sialcobas perché hanno valutato che essendo un puzzle potevano non essere incasinati da altre beghe dei sindacati di base la dico così perché me l'hanno detta così loro il risultato abbiamo eletto tre operai nella lista del Sialcobas la FIOM ha zero operai cioè su 2300 persone nel 1962 hanno fatto 70 giorni di ciopero la FIOM i lavoratori non so se tirava la carretta anche allora qualche dubbio che anche allora io ce l'ho sempre avuto ma ve lo risparmio però questa è la situazione cioè lì dentro succede un incidente l'altro ieri hanno fatto un giorno di sciopero no hanno fatto uno sciopero per ottenere due stazioni dopo un giorno era unitario arriva la nota che è unitario il giorno dopo gli altri va bene una stazione quindi lo sciopero rimangono a farli alcuni questa è la durata diciamo di una resistenza avere una stazione in più significa salute non significa solo come dire evidentemente quindi siamo in questa situazione vi cito una roba che non c'entra prima c'era con me la compagna che lavora nella scuola assistente scolastica disabili adesso ci sta dando una mano abbiamo incrociato asilo nido le lavoratrici comunali che hanno aperto gli asili nido che hanno stanno andando in pensione li buttano fuori e invece di 30 ore su 36 30 ore frontali su 36 sono 38 col contratto un'eba o contratto cooperative sociali pagate peggio quelle nuove e però per fare i servizi che al comune servono per i genitori per questo che vanno fatti si fanno fuori orario per cui gli hanno proposto due ore di equip dopo le 8 ore e due ore altre nella giornata 12 ore cosa gli rispondiamo a questi le lavoratrici hanno scelto questo perché tra le beghe familiari eccetera almeno in questa giornata ce la chiudiamo lì e noi dovremmo fare qualcosa spiegandogli che non si possono fare 4 ore straordinarie però non sono straordinarie sono da recuperare qualcuno la CGL in questo caso ha fatto un accordo che con questa flessibilità prendi un premio cioè noi abbiamo una lavoratrice che dopo che è andata a reclamare che non gli andavano bene queste cose che vi ho sommariamente descritto dopo due giorni viene riconvocata l'equipe nel suo asilo era con le comunali e queste esternalizzate passatemi anche se è un'azienda speciale ma insomma di fatto va la psicopedagogista si dice così nella ridiscussione del perché non vanno bene queste cose la nostra delegata sviene nessuno chiama l'ambulanza mezz'ora prima esce il papà la porta a casa poi sta male di nuovo la porta a pronto soccorso e ovviamente adesso dobbiamo aprire da che parte partiamo facciamo malattie professionale è un rischio ma almeno la tiriamo lunga poi però questa è la situazione di un posto di lavoro dove voglio dire non dovrebbe succedere niente però è stress da lavoro correlato è veramente una situazione vi leggo due cose sulla Pirelli perché è qua vicino allora io ci prestiamo come sindacato ad esperienze con altri ma la situazione è questa qualche settimana fa una bobina da 1500 kg invece di stare a dovera cade l'operaio si fa male la tesi è che quello lì ha già fatto una dozzina di infortuni quindi sarà colpa sua adesso che sia in grado di spostare 1500 kg è discutibile però la tesi è questa qui e la cosa abbiamo tentato di fare per adesso da fuori non avendo insomma una situazione complessa sindacale che non descriviamo nessuno ha fatto niente né un'assemblea niente intanto la gente è in cassa integrazione perché delle due macchine una è ferma quindi quante gomme si possono fare meno di ieri evidentemente e quindi gente che subisce un danno anche economico oltre che un problema e adesso qualcuno commenta dove lavoravano in due con i loro accordi adesso lavora uno così in caso di infortuni nessuno può salvarti poi si proclama sciopolo contro gli infortuni sul lavoro a Torino dopo la giornata del presidente insomma l'altro giorno e hanno inventato in contemporanea la manifestazione del 22 che c'è una roba sulla sicurezza a Roma tutti sabato Roma su questo a Torino fanno sciopero il 20 tre ore di sciopero in un posto vesato all'infortunio un'assemblea attribuita visto che ce ne sono ancora 7-8 delle 10 annuali è così complicato farle non le fanno sentiamo tutti i giorni corsi sicurezza dove si ripete all'infinito in caso di infortunio il 90% è sempre colpa dell'operatore non è mai colpa di chi aumenta la velocità dei macchinari da ridurre il personale nelle posizioni lavorative vi risparmio le battute sui sindacati ma insomma questa è la situazione che abbiamo allora lì noi non so se con uno due tre lavoratori riusciamo a fare un articolo nuovo cioè un collettivo che interviene certamente se non abbiamo il delegato non possiamo indire l'assemblea non possiamo attaccare in bacheca niente non so cosa faremo però ammesso che lì dentro c'è la sinistra CGL ci sono rifondatori ci sono di questi ci sono di quegli altri io la considero una disgrazia un posto da 1200 dipendenti questa è la situazione con cui abbiamo che fare quindi sicuramente abbiamo un sacco di roba da fare come dire Maurizio diceva lavoratori lì ci sono lavoratori e ruoli sindacali io penso concretamente che non senza l'RLS ma senza una rivendicazione sindacale il singolo lavoratore del gruppo omogeneo può fare delle cose arriva la denuncia può ovviamente far cambiare delle cose lì perché è possibile farlo sulla sicurezza però questa situazione è una situazione che sarà bello complicato rimuovere noi continuiamo a provarci credo che il lavoro dobbiamo continuare a farlo grazie scusate grazie è qua l'ultima rimasta salve sono Giovanni Perelli responsabile dello sportello di medicina democratica di Taranto sportello che è stato aperto nel marzo del 2020 e che da allora in fase alterne diciamo che si è sviluppato in modo ragionevole anche se abbiamo notato diversi problemi a cominciare come abbiamo aperto la sede dal fatto che c'è stato il covid e quindi si può dire tranquillamente che per un anno siamo stati completamente chiusi e successivamente una volta acquisite alcune pratiche per lo sviluppo di questo discorso con medicina democratica dove potevamo portare gente a denunciare quelle problematiche per quanto riguarda sia la mala sanità che per quanto riguarda soprattutto per noi di Taranto i danni che ha provocato la grande ilva sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e su questo punto qua noi non siamo stati dopo il covid non siamo stati capaci oppure più che capaci non c'è stata la volontà da parte dei medici legali del territorio a supportare questa nostra richiesta in quanto pretendevano delle cifre davvero esuse da richiedere poi ai nostri assistiti il che è andato un po' a bloccare il nostro tragetto con medicina democratica medicina democratica per quanto riguarda il territorio di Taranto ha sempre denunciato quello che in pratica anche come il nostro sindacato di cui facciamo parte io e Stefano Sibilla la LMO sindacato di classe ci siamo sempre battuti sul fatto che quello stabilimento con medicina democratica non è compatibile parliamo dell'ilva di Taranto non è compatibile con la vita umana e ambientale del territorio di Taranto questo affronte anche ultimamente come ben sapete della sentenza della corte europea di Strasburgo dove ha condannato l'Italia ad aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto al ricorso affettivo dei cittadini e dei lavoratori violando gli articoli 8 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo quindi ha condannato l'ilva l'Italia e quindi l'ilva per questi disastri ambientali e soprattutto sulla salute dei suoi cittadini e lavoratori all'interno dello stabilimento ad oggi tramite quella sentenza del tribunale noi ci siamo proposti grazie all'impegno di Stefano Suipilla segretario provinciale della LMO sindacato di classe e al sostegno del supporto lodevole del nostro segretario nazionale della LMO sindacato di classe di Antonio Ferrari e di tutto il coordinamento del LMO di poter organizzare una fase di richiesta da parte di lavoratori che volevano aderire e quindi cercare di ricercare il risarcimento d'anni nei confronti dello Stato italiano ad oggi una ventina di lavoratori si sono espressi favorevolmente a questa discussione anche perché per la prima volta succede questo discorso qua che la Corte Europea condanna l'Italia a risarcire i lavoratori danneggiati fisicamente e anche all'ambiente circostante su uno stabilimento che produce solo inquinamento e morte cosa che a differenza di altri sindacali confederali non hanno mai o non hanno mai voluto intraprendere questa strada noi siamo i primi che intraprendiamo questo tipo di lotta lo facciamo non solo per un discorso risarcitivo da parte dei lavoratori ma lo facciamo soprattutto perché si abbia la possibilità di aprire a Tardo un tavolo istituzionale per far sì che si crei quei presupposti con il governo di creare una legge speciale per Tardo dove tutti i lavoratori abbiano il diritto di avere quelle prerogative per poter accedere quindi alla legge sull'amianto e sui lavori usuranti senza ricorrere via travesse da parte della grande indossa in modo ricattatorio nei confronti dei lavoratori che a tutt'oggi purtroppo bisogna dirlo vengono vessati in quell'azienda con questo volevo semplicemente dire che per noi di Tardo di medicina democratica di Tardo si dovrebbe e si potrebbe aprire una finestra importantissima per quanto riguarda questo discorso qua di cause che potrebbero essere intraprese nei confronti dello Stato o di quegli enti parliamo anche di malasanità che spesso e volentieri succedono in queste situazioni l'obiettivo nostro assieme al nostro segretario Stefano Sibilla per quanto riguarda la parte sindacale ma anche per quanto riguarda la parte medicina democratica è quello di dare un supporto legale e soprattutto morale nei confronti di quei lavoratori e cittadini che vorranno avvicinarsi a noi e chiedere quei diritti che spesso e volentieri sono stati vessati sia da parte dello Stato e sia da parte della grande industria con questo vi abbraccio e vi saluto a tutti arrivederci salve salve sono Giovanni Perelli responsabile dello sportello di medicina democratica di Taranto sportello che è stato aperto nel va bene per i più resistenti avete un riposo di due ore e mezza potrete vedere i film Chemical Bros ve lo consiglio resistete per chi alle nove alle 21 ci sarà il regista che prima si è intravista sempre qua altrimenti ci vediamo domani alle nove abbiamo messo un orario un po' presto diciamo così perché i relatori sono tanti però penso si parlerà di temi estremamente interessanti appunto legati alla salute mentale grazie e a presto grazie a tutti